live di dissing niente non sono scalabile a me Art ha fatto pistola e a me JerryPip è partito ok ok me l'hanno ridato me l'hanno ridato niente io non sono oggi non stream con la multi quality no Jerry non puoi così tanto? insisti Jerry insisti JerryPip offline ha scritto Art yeah Arpa non bullare Jerry che sta cercando di avere il multi quality Arpa non bullarlo poi ha cominciato anche prima del previsto cazzo niente ce l'ha ancora con Conte niente guarda Conte Arpa ferma Jerry mi sto impazzendo Arpa insomma io lo levo da Telegram Conte dov'è? mamma mia moderatore niente non lo posso levare perchè è moderatore niente perchè io non posso e voi con Arisa si con Arisa cosa sta dicendo? non lo so non lo so è pazzo non lo so Art dammi multi quality e basta non fare resistenza daglielo daglielo basta Arta Arta vai a rubarlo a bonco e dalla gente ma Voco stream anche senza Voco non gliene frega niente cazzo ah si? è vero? sta streamando senza cazzo niente magari Conte ce l'ha però vado a vedere vado a vedere si si ce l'ha là ce l'ha ce l'ha non ce l'ha cazzo non ce l'ha cazzo non ce l'ha cazzo non ho detto Arsia quella che canta su Tekken ma è Alisa no è Arisa te l'ha distrutta più di quanto l'ho distrutta io cazzo mamma mia era fatale ti ha fatto cioè in confronto Jack era un complimento vabbè niente dai non so quanti tentativi sono ma che sta succedendo ma così tanto non me l'ha mai fatto quindi semi-modelo è come se tu moderassi moderni con moderazione moderata tramite la moderizzazione dei termini moderati mi sta bullando oggi Twitch no no does it feel niente Iceed che sta giocando da Iceed ce l'ha la multi quality ce l'ha? non lo so penso di si appena avviato vediamo Dark Souls Iceed non ce lo vedo come non ce l'ha no sta riavviando pure lui ok ok no non riavviamo insieme ai siti che vanno in conflitto eh no appena riavviato non gliel'hanno dato neanche sta volta nooo non far la clip cazzo ma ha messo Iceed feel pure lui ma basta ma basta ma basta ma le auto ma le auto chi stai usando Go Easy Twitch? chi? tu nella tua chat l'ho scritto hosting di Go Easy Twitch no 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 Jerry no no ti giuro ho letto no 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 Jerry no no fidati sono pazzo no 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 e perchè non le multi quality? oddio ma è vero eh te l'ho detto è stranissimo ma sono online questo è quello che credi te? ma sono online non sei mai sconnesso ma cosa? oggi cosa sta succedendo? guarda ho tolto l'host c'era 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 l'host sopra la mia live ho tolto l'host e sono ripartito guarda te l'ho detto ma com'è successo? cosa sta succedendo? vorrei che si sta rompendo Twitch a questo punto ciao Daisy com'è successo? ciao Daisy a questo punto mi sa di si si sta rompendo Twitch perchè non è possibile guarda sono tutti in live tranne che me guarda cosa sta succedendo e Jerry sta cercando di avere il multi quality non ce la sto facendo oggi è una giornata nera ma così tanto non ho stato Arta non ho stato io ero in live ed è partito l'host ho tolto l'host ed ero ancora in live cioè la mia live stava continuando ad andare sotto l'host non capisco non capisco ti prego stai zitta ti ho detto di restare in macchina quando dice ti prego stai zitta è bellissimo lo dice proprio con una con la rabbia è una rabbia calma è la peggiore che cazzo quello cosa sta succedendo? ti ho detto di aspettare in macchina ma cosa sta succedendo? cos'è? perchè? cosa sta succedendo? cos'è? questo che ti ho detto di non venire? professore dobbiamo cercare gli abitanti devono essere sconvolti sono stanco di avviare cioè no dai dai glielo cazzo fate 10 minuti? deja vu niente 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 sei proprio cattivo harta a fare così non mandare suoni mentre Jerry sta provando mostra niente niente non devi ridere non devi ridere tu l'hai fatto messa per harta mio dio non so io cosa credere ormai questo era proprio bullismo questo c'è come il video dei pinguini che fanno inciampare gli altri pinguini uguale io sono il pinguino che sto cercando di andare a bere e niente si ma giocare alla fine della live la fa partire o no niente danno la colpa a te non so fai vedere a me se ti compare il multi quality perché Jack dice anche che a volte io non lo vedo mai non è vero quello che dice non lo so non ne ha azzeccata una quello non è vero quello non è vero mamma mia ce l'ho fatta vediamo c'è 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 mamma mia partiamo mamma mia che fatica mamma mia ho temuto per un attimo ho temuto davvero mamma mia la facevo a 7 e 20 cazzo no 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 rimandavamo jerry dai no 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 cazzo proprio no 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 jerry no non è successo comunque non è successo voleva vincere twitch l'hai sconfitta l'hai sconfitta l'hai sconfitta e colpo di lion non c'entra jerry twitch è come il team rocket poi è ripartito alla velocità della luce ci prova ogni giorno ogni volta viene sconfitta dov'è woma fett woma fett mamma mia rai si vai 10 minuti rai che riavvio eh giochi 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 no arata sei stato cattivo che cosa vuoi neanche fare jerry pippo niente continui jerry pippo pizza no non si vede da me niente jerry non cattura il gioco come mette di gioco? non so perchè ma quella è una pistola vera si è una pistola vera ah eri tu niente niente ormai rispondo a comando io ok questa questa soundtrack migliora quella di Resident Evil 6 ci stava pure eh si stava pure si si adesso creo la versione 1.1.0 davvero non l'hanno patchato così tante volte no incredibile c'è YOLO eppure ne avrebbe bisogno cazzo ciao YOLO lo sistemo io con le mode non ti preoccupare no 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 allora nuova partita plus no no devi mettere capitoli i due omi chris no ma e non sono riuscito a trovare mode decenti daisy considera perchè a parte stavo cercando solo mod femminili e mettere una femmina in posto di chris e quell'altro poteva essere un po' tutti i testimoni eh ho messo inferno ragazzi eeeh eh sto giro tocca a me avere i pugni nelle mani privato online no ho trovato qualche cosa daisy per far diventare femmine personaggi femminili però nelle cazzi n'era ridicola come cosa minchia ma non posso mettere caccia all'uomo? no no va bene così ma io voglio mettere caccia all'uomo non posso Gerry non posso Gerry non posso Gerry cosa ha vinto cosa ha vinto cosa ha vinto ho sentito fortnite ma non l'ho sentito la parte prima non l'ho sentito la parte prima meglio meglio oh dai sei contento di avere Justin Bieber come personaggio a giocare niente pesante ciao Robiii non ti avevo visto perdonami aspettate ragazzi ero un attimo in daffardo a creare la partita si si ride ma infatti ho evitato per quello Gerry ho mangiato salsicci piccanti e Gerry buono ed erano piccanti per finta ma 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 eeeh Elena è tornata ah fa la barista l'hanno licenziata cazzo oddio ho fatto bene quella bistecca buona guarda ho fame adesso mamma mia niente mi trovo d'appetito è difficile trovare un buon steak qui minchia non come a casa baby 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 ooooh non si beve ha smutato in là ma è pepsi è pepsi fill her up ho avuto ne hai avuto abbastanza ascolti amore no la voce di Chris in inglese è troppo bella però no a che ritenere non è brutto vabbè ma perchè è moneta piccatezza finta oddio ma cosi perchè ma ma si stava dando soldi pepsi trasparente no che cosa questa pepsi trasparente no no c'è quella del video del video del video del video ah ok ok questa in italiano me l'ha detto a me no sta parlando tipo in no no è russo lo so hm mai pensavo che chissà chissà in effetti non si regge in piedi guarda in realtà è ridotto così perchè è morto Wesker allora è triste sta col volume basso io però cercherò di stare in silenzio per questa cazza non ricordi nulla cosa bioterrorismo bioterrorismo non puoi evitare dal tuo passato Chris non importa dove vai o cosa fai chi sei? che è questo? ok non ricordi di me? ma come allora guarda Alfonso fin guarda questi erano i tuoi uomini 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 i tuoi uomini e i tuoi uomini ricordi di questo e ti fai fuori ora e questo era tutto per niente uomini 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 6 mesi cercando per te e questo è quello che trovo è tutto per te non no stufo stufo no è E' bellissimo Questa è una delle poche cazzi che mi ricordavo al cento per cento Perché è una delle poche che è bella Dai, è vero cazzo Sono brutta Dai, la cazzo di cosa diventare il dinosauro è bella E' per quello che Chris stava bevendo Stava cercando di dimenticare il T-Rex Non vuole diventare Sailor Moon Lasciatelo stare poveri No, no, non mi prende il gioco Cosa succede? Devo affrontare la verità E' l'unico modo per ricordare Non mi prende il gioco L'unico modo per riavere la mia vita Metti in pausa Metti in pausa Ok, 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 l'ha preso Niente, è sparito Di nuovo? Cosa sta succedendo? Ok, ok, c'è Allora, eh, decidiamoci Eh, non capisco Voi diciamo che i videogiochi non l'ha Gli FPS sono completamente da puttane Cosa sta succedendo? Gli sui poteri erano ubriachi perché erano il T-Rex Mamma mia, dai, non fatti però Niente, mi metti assiniti Aspetta Cermio Cecco E' un mitra Eh, siamo armati io e a bombazzone Questa la finiamo alla prima Eh, questo in realtà è uno dei capitoli più difficili, cazzo No, 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 minca, sono armato divinamente Guardate munizioni, ho mai avuto così tante Sto, dagli tempo, dagli tempo, cazzo Bomba a mano anche me l'ho dato No, 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 questa la finiamo, cazzo Io ce l'ho mitra, pistola E il coltello ce l'ho anch'io, finalmente Eh, non ce l'ho Quelli di PSA, esatto Quelli di Dark Souls, cazzo Che peculiarità aveva il tuo personaggio L'arma, forse Mi sa che avevi l'arma con il cecchino, forse Sì, c'è il cecchino e il mitra Ah sì, eri il cecchino tu Che peculiarità, fai concerti per le tredicenni Niente Grazie, Robiii Lì qui non si fa ragione, Jerry Dicchi cosa ti sei fatto Che fine ha fatto, Jill No, no, Jill In realtà l'hanno messa da parte per sempre Non c'è più vista dopo Dopo il 5 3 di quadri Vabbè Ciao Valen E' tornato Valen E' tornato Valen E' tornato a vederci morire su le 6 Dai cazzo Niente Niente E' tornato a vederci investiti dai treni No, non ci sono più treni Non ci sono più treni Lo dici, lo dici Lo dici Sono le 22 e 14 Di nuovo tempo fino alle 22 e 34 E sarà senza posizione E'ainstalizzato Ma così Pi-pi-pi-pi-pi-pi Aiai, hai picchiato me Ma cosa? Cosa stai facendo? No, no, liquid Non ho una videocamera Non vedi? C'era uno che rideva come Jerry Pippo Ho sentito un Jerry Pippo cinese su nel mio occhio destro Ma levatevi dai coglioni mamma mia cosa sta succedendo pezzo di di qua oh 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 levamelo te lo immagino te lo immagini se facessero davvero così è vero che stanno giocando il mondo niente ragazzi non si inizia normalmente amma mia aspetta belle chiappe che fino a fatto non c'è più aspetta che ne incominciamo a mescolare con due larghe questa è l'unica campagna dove ci sono solo maschioni virili sudati muscolosi non voglio più giocare cazzo è passata la voglia purtroppo questa campagna è così ragazzi la prossima avremo si si la prossima tornavano i culi ragazzi tornavano i culi e che culi cio io io sto per fare una cazzata incredibile sto per morire ma buonco basta cosa stai facendo eh un buonco si metteva nel mezzo e non riusciva a sparare al niente se la prende con buonco e niente no no però torneranno i culi torneranno aia ci sono i cinesi con i mitra ci sono i cinesi con i mitra cerca di far quanto più mele possibile non mi piacciono perchè qui davvero le munizioni sono pochissime buono non abbastanza pesante bastardo boh 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 guarda non muore morto? eh non lo so non si è morto morto è l'unico catapera che non sparisce quello tipo ma è diventato rosso no no ma tornerà a raiden nella campagna di sherry e quell'altro maschio non so il nome si ci sono i culi sia nella campagna dopo che quella dopo ancora si si ma il culo di sherry sarà diverso da me che da te niente l'ho modata l'ho modata niente è presa dall'altro videogioco che oddio è un messicano pesante pesante pel'elicottero o pesante per un messicano terzi per il messicano devo andare per una notte a sabato che posso stare fino a tardi notte rovi grazie per essere passata Vedrai Raiden, vedrai. Non voglio spoilerarla. Tanto ci sono almeno altre due live prima di arrivare lì. Ma che tre? Mamma mia. Ma perché lui non ricorda nulla? Traumi. Si vedrà Sherry in questa campagna? Ma in tutte le campagne si incrociamo sempre gli altri. Allora sì, allora la vedete prima. Se mi rimane la moda anche nelle altre campagne si. Ma pensi che si, i modelli è quelli. Si, c'è anche per un bel pezzo Sherry e Jay che con questa campagna fa. Mamma mia, mamma mia. Sono pronto, prontissimo. Io sto vedendo se c'era una roba. Eh, capi. Oh no, 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 che voglio che sia. Fermi, fermali. Io gli ho sparato Jerry, non so se ho fatto bene. Che cazzo sta facendo il mio personaggio? Ah, questo è morto così? Ma chi è? Ah, ah, eh vabbè, ma mi ha distratto l'amico qui nostro. Eh no, è morto. E non muore. Ci penso io, cazzo. E non muore. Ma quanti colpi? È morto, è morto. Ah, ma quello dici? Nooo. Ok, è morto, è morto. Mi manca il calcio volante di Elena, cazzo, mi manca. Voglio il kebab. Pakistani sono diventati. Niente. Apri, 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 mi manca l'aria. Ho aperto, cazzo, ho aperto. Voglio la mano. Mamma mia. Mancava solo che prendessimo la sua spada, cazzo. Ma via. Sì, ma ora inoltre che c'è la cazzo devo tornare di spalla, ne ho metto mia sinistra. Eh, lo faceva anche con Elena. Cioè, deve finirla. C'è niente? Sì. Eh, granato. È personaggio mancino, quello. Oh, oh, oh. Oh, professore. Ma quella. Ma dove mi prende? Mamma. Oddio. L'ha picchiato anche questo soldato qui accaduto, cazzo. Vaporetto. Cattanto Jerry. Mamma. Cosa sta succedendo? Come era messo quello? Ahia, oh ma scemo. Bullo, lo bullo. Mamma mia. Non voglio usare erbe, cazzo. Piuttosto ci muoio. No. Niente. No. Oh, c'è nientro. Ahia. Stardo. Niente, niente. E' spadata. Non lo prendi, è inutile, è invulnerabile. No, 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 è morto, è morto. Vaffanculo, cazzo. Vaffanculo. Sono stacco, sono stacco. Non sa che cos'è la morte, quest'uomo. Basta. Ma è diventato un wrestling, cazzo. Mamma mia. Io sono già senza vita. Sono senza fatica. Ok. Cos'è la perfetta è il coltello, toglilo. Ok. Ma ora si riposa, sì. E' quel Resident Evil che non esiste. Mamma mia, se non esiste. Ho giocato la sua campagna poi, è tutta action. Madonna. E' la campagna con l'off duty, questa. Mamma mia. Ma è vero, eh? Così crudele? Vabbè, sì. Ma la chiamavano tutti così, è quando è uscito sto gioco. Ma l'abbiamo capito che si rigenerano, basta. Ah no, forse non fa solo quello. Ok, ok, ok. Che fastidio, i cosi che mutavano, mamma mia. Ma è più pesante di lui, guarda, non riesce nemmeno a muoverlo. Bello. No, no, lo muove, lo muove, ok. Che c'è? Lo possiamo salvare quello, eh? Sì, sì, lo possiamo salvare. Eh, non lo so. Oddio. No, è vivo, è vivo. È vivo, è vivo. Eh, hai salvato me, cazzo. È simile. Non è vivo, non è vivo. Gomboni, gomboni. No, no, no. No, no, no. Niente. Oh, cosa fa? Lascia russare. Ok, forse è meglio non fa punico questo. No, no, no. No, no. Atterra, atterra, atterra. Cosa, cosa si è preso? È uno stronzo con l'altro. Va bene, non mi ha dato nemmeno il tempo di arrivare, però. Oddio, non ho la cola. Ma per cosa, cosa voleva questo qui? Perché sei mischiato? Ma perché sei mischiato? Stavo mazzando tanto bene l'altro. Niente. Niente. Non mi ha dato nemmeno il tempo di girarmi verso il zedio. Ma io non so giocare con l'off duty, è quello il problema. Yeah. Keep it back! Ahia. Beh, mi mi è ammazzato durante l'animazione perché ho dato il pugno a questo. Che cazzo che ti sta? Ancora. Ma dov'è? È qui. Ma c'è uno che spava. Ah, guarda dove cazzo è. Sì, ma muori, madonna. Quanto duro è stato. Dai. Oh. Ah. Va bene, la notte mi dà più fastidio sono quelli che sparano. Cioè, no, non voglio vedere uno zombie che spara. Non sono zombie questi, non sono zombie. Eh, spara a me, vabbè, niente. Anche oggi tocca a me morire. No, è vivo, è vivo, è vivo. Ah, ok, niente. Oh, vuoi? Oh, no. Ah, non so colpi di pistola, questo. Stay here and tend to the wounded. HQ. Oddio, scusa. Ehi, oggi tocca a me essere burlato, cazzo. Basta, basta. Non l'abbiamo visto. Scusa, aspetta, sto vedendo. Ah, arriva, arriva, arriva. Si stava alterando. Quando l'avevi detto sei una volta arrabbiato, ho fatto un poesino. Ma in copertura, liquid. No. Non buttatevi avanti, lui è andato, cazzo. No, no, sono qua. Ah, ah. Niente, mi ha sparato. Non fia giardare. Mamma mia, l'ho ammazzato giusto in tempo. Oh, cazzo. No, carica veloce. Ma basta, ma perché rollano? Che fastidio. Dai, veramente, cosa sto vedendo? È resident evil, Gerry, tranquillo. Non mi ricordavo che facevo così tanto, guarda lì. Cazzo. Gerry. Aiuto. Sto ammazzando a quelli lontani, sto ammazzando a quelli lontani. No, è seri. Mi picchiano. Ho paura. Sì, ma non mi sto facendo niente, però. Ah, niente? Niente? Che cosa mi ha preso, cazzo? Ok, l'ho ucciso. Ah. Niente, ce n'era un altro. Niente, mi stanno facendo... No, ma tutti si trasformano. Mi stanno facendo torna indietro. Gerry. No, anche lui si trasforma, no. Ma siamo seri, basta. Maffanculo. Oh, mamma mia. Basta. Oh. Uh, vai. È stato un bullismo assurdo, è stato. Gomboni, gomboni. Va bene. Va bene, ragazzi. 10 minuti per i multiquanti per sentire i gomboni, gomboni. Va bene. Va bene, ho comprati CD io delle Muse per sentire i gomboni, gomboni. 30 euro, è 30 euro, scusate. Va bene, non c'è problema, ragazzi. No, andiamo. 30 euro. Gomboni, gomboni. Va bene, perché ogni volta mi prendo il colpi che sono per te. Ma no. È assurda sta cosa. Niente. Cosa ho visto? Ok. Bravo Raiden, bravo Raiden, guarda. Don't worry, gomboni, gomboni. Aiuto. Cosa succede? Cosa mi ha preso? Ho avuto paura. Oddio, è morto così. Va bene. Che paura però. Mi importa che tolpe di te e paura, non io, perché non sono abituale. E niente, mi blocca. E va bene, due volte consecutive no però. Eh che cazzo, basta. Oddio, oddio, così? Ma cosa fai? Ma cosa ho visto? Sbosare la testa. Gli ho speso gli stani, gli stanno io. Gli ho speso gli stani, gli stanno io. Ho speso gli stani, gli stanno io. Ah ok, ok. Minchia, se no era... Era Raken, era Raken il guerriero. Oh me wasshinderu. NANI! Eh non mi fa... Ok. Capitano! Ho avuto dei problemi, ho avuto delle complicazioni. Dai, per ora non sono morto, cazzo. Lascia fare. Eh, io sì però. Per me è un record, cazzo. Non do niente. Niente, nella campagna con tutti i giochi meglio di me, Jerry. Guarda, non so se sentirmi offeso. Uoooooooh! No, no. Dovevi, dovevi, dovevi. Aiaiaiaia! Mamma mia, la cattiveria, cazzo. Mamma mia, sì. Mamma mia, la cattiveria, cazzo, 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 cazzo. Non è un problema in questa campagna, eh? Cioè, qui veramente diventava problematico. Stiamo dando molto bene, in realtà, dai. Ma è iniziata! Molto meglio di quanto mi sp... Eh, ma dai, da questa parte... Eh, la cattiveria, cazzo. Cioè, è proprio il passaggio... È proprio il passaggio dalla campagna tra DiLion e Chris che è difficile. Perchè non ti aspetti gli zombie con i mifas? Eh, ma ho giocato tantissimi cod io, sai, quindi sono abituato. Eh, mamma mia, cazzo. Si insulta da solo adesso, niente. Niente, va bene, va bene. Ma cosa usi le scale? Eh, mio figlio, sono muscoloso con te, cazzo, eh, pueragico. Te l'ho uscito dal liceo. Ma vai a cantare baby baby oh. Ma bene, va bene. Ma che fanno? Che fa quei su? Non lo so. Eee, cadevi da due centimetri. Guarda cos'è successo a quello lì. Cosa mi è arrivato addosso? Eccolo lì. Lo zombie volante e quella mitraglietta, è il mio incubo. Io ho avuto un incubo simile una volta. E poi è stato stato uno psicologo. Mamma mia. Si col braccio mutato pure, va bene, va bene. Cazzo ha lanciato? Dai, i butterfly su. Niente, devi stare bagando la diamadonna che parte. Eh, non muore quello stronzo. Non mutare eh? È morto, è morto. Ma la farfalla di merda non muore. Quella no. È baggata qua dentro! Su! Eh, via libero. Via libero. Ho finito le munizioni, cazzo, via libero. No, no, come l'hai finito? Non t'azzardare. Mi guardo metto sto allezioni. Mi sponso te perché, no, tranquillo, tranquillo. Mi devi coprire tra poco, eh. Non t'azzarda a finire munizioni, se no non fai più andare avanti. Ne ho dieci, dai, basta. Nooo! No, 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 scherzo. Mi sono riuscito dal liceo, mando le queste missioni. Cazzo! No, non vieni, vieni. A posto, ti ho salvato. Niente. Ciao! Non posso sostenere il mio peso, quella cosa. La memoria muscle memory saved me there. Gerry! 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 Era questa la parte! Gerry! 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 Non gli stai sparando neanche una volta! Ho finito le pulizioni di un'arma! Aspetta, devo cambiare l'arma! Va bene, addio. A posto, posto. No, 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 no. Ciao Gerry, è stato bello. No, no, stanno muorendo tutti, stanno muorendo tutti. È stato bello Gerry. Tutti stanno muorendo. 3... 2... Dov'è? Dov'è? 1... Ho capito, ho solo tantissimi liquidi, dai! Yes! 3... Hehehehehehe. Questa morte sparole addiano a te, cazzo! Mamma mia! Io volevo essere lì sopra a cecchinaare. Niente, va bene. Hai proprio cecchinaato, cazzo! Ma non lo mi tra, quindi devo sparare col cecchino, cazzo! Ma devi usare il cecchino, è ovvio! Ma Dallino si vede un cazzo, c'è la larynghiera! Mmm, devi metterti in un altro punto! E non posso, perché te muori! Niente. è capitano non mi fa andare su in cima e niente speriamo dalla ringhiera che è la memoria muscolare l'ho salvato perché il gioco è scattato ahia ahia ho già una sacca in meno mi posso curare io no non posso curare sono morto ho capito io più di così non so che devo fare e non è nemmeno io dove sono? dell'altra parte di fronte a me non è vero c'è ancora qua sotto uno ok si ma quelli mi stanno per uccidere e vabbè ho capito ok ok no dobbiamo studiare una tattica perché non si va avanti fammi curare al massimo intanto non hai curato al massimo? eh io non ho così tante medicina volevo un po' conservarle ma qui non si riesce ad andare avanti aspetta 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 che mi è andato sul secondo schermo il niente ok ok si ma io come devo fare che ci mette due anni e mezzo a ricaricare la memoria muscolare mi ha salvato si eh eh va bene la memoria muscolare mi ha salvato eh pyrrhus sto prendendo un po' di fire qui ci sto provando è una tacca andata cioè lo vedi quanti sono? due tacche andate stanno arrivando anche quelli di fronte allora quelli lì sono andati teoricamente tre tacche andate geni devi sparargli prima che mi tolgano la tacca però non dopo non hai capito che non riesco a trovare quattro tacche andate ne rimangono due dov'è quell'altro? si sta trasformando ok sono arrivato non ho più vita io però va bene la falla fermo 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 ok la falla è andata ahhh mi sento mi sento violato ragazzi io mi sento violato eh io mi sento senza munizioni ho detto di conservarmi niente ho usato quelle del mitra non le ho mai usate quelle del cecchino niente qui di coprimi eh te coprimi dammi una vp almeno che li one shoti cazzo niente se ti trasformi però se io li uccidere si trasformano è andata la farfalla non la vedo più io non l'ho mai vista no non l'ho mai vista no io uno ne ho visto e uno l'ho ucciso Oh cazzo è arrivato qui da me! Eccola lì! Ok. Mamma mia! Perché? Oddio, ma questo perché è trasformato? Io non li vedo gli altri, non so se ce ne sono. No, non ce ne sono. Per ora! Li sento, li sento! Arrivano sulle scale! Sì, ma si stanno trasformando tutti quelli che ho in sparo, gnie! Non li vedo, cazzo. E tu rimani lì, rimani lì che a meno prendi un po' di tempo perché sono tutti sulle scale, sono. Sono vivi ancora? Sono vivi ancora! E ne prendo anche due alla volta, cazzo. Bam. Posto? Non lo posso s... Ah! Dove? Ancora? Vaffanculo! Eh, io non ti vedo più, eh, se tu va lì. Ce ne sono due che volano, seri? Eh, non li vedo! Finché non vengono davanti a te, non li vedo. Non stanno venendo da te, mi sa, comunque. Ok, fermo, fermo. Ti vedo. Oh, tre, vabbè. Ok, una persona mitraglietta, l'ha anche morto. Due. Deve non andare più da sinistra, non riesco a prenderli da qua. Il terzo sta arrivando da te, mi sa. Ah no, è qua. Cazzo che vengono davanti a tutti da me. Morto. Ok. Vediamo se qua c'è munizione. Dammi le del cecchino, eh. Abilità e abilità. Buono gioco. Buono. Non sono utili le abilità. Intelligente. Già li servono per migliorare. Devi venire tu di qua o io ne io da te? No, tu da me. Va bene. Ho un colpo di cecchino e un colpo di mitra. Io ho 41 colpi, 76. 1 e 1. 81 e 76. Che déjà vu enorme, cazzo. Che fastidio. Vabbè, vado di colpo a corpo. Potrebbe andare... No, non è bene. No, sta parte era tosta, cazzo. No, vuole mettere copertura. Che cazzo sta facendo? Io sto giù. Niente, vedo Jerry che mi cammina davanti. Cosa mi ha preso? Non ti trasformare. Mamma mia. Si è trasformato in come, invece? Ti voglio amatar. Sembrate di sentire ti voglio amatar. Quella è un'altra. Ho 10 munizioni qui, dai. Mi piace munizioni? No. Due di abilità. Nice. Va bene così, va bene così. Sono contentissimo. Ok, dai. Quello si sta trasformando, Jerry. È una buona notizia, vero? No! Ce n'è uno lì? Jerry? Niente, si sono trasformati entrambi. GG. Dai, dai. Niente, non lo finisce. Non l'ha finito. Uccidilo tu quello. Nozzo. Ok, questo è andato. Chi ha preso? Ho preso due, ci ha preso? No, no, ho preso solo te. Ah, ok, ok. No, non ti vedo, non ti vedo, non ti vedo. Ok. Aia. Rimani giù, rimani giù. Non ti alzare. Troppo tardi, troppo tardi. Cazzo. Ci penso io, ci penso io, tranquillo. Mamma mia. Cosa? Cosa è successo? Che c'è? Non lo so, ho avuto un flash tipo come se qualcuno fosse andato morente. No, 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 mi sono curato, mi sono curato, dai. Ma io ho visto il flash, ho avuto paura. No, 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 sono vivo. Sicuro di sentirti bene. Sono vivi, ho sangue ma va bene. Ma mi ha dato quel flash lì strano, Jerry, ho paura per te. Non sa che... No, no, è una premonizione. Era un presaglio. Niente. Dai, ma non ci sono caso, non ci sono. Oh, car... Qui? Sì. Dai, dai, dai. Niente, niente, abilità. Uhuh, uuh, 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 uuh. Uuh, 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 uuh. Uuh, uuh. Via, fa uscire pazzo, però. Cioè, ora, d'accordo che è difficile, no? Di livello di... Sta andando tutto... Sta andando tutto bene, baby. Guarda un pugno quel barile rosso. Oddio, qui ci deve essere per forza, dai, tre. Ma meno male. Abilità, abilità e munizioni, ok. No, no, tre, tre di munizioni me l'ha data. GG. Guarda, per altri cinque minuti sono a posto. Eccomi... No? Non è qua. Oddio. Oddio. No. In boscata. Geli, ti sei fatto scoprire. Ma no, non ho bussato io. Oddio, oddio, chi è proprio così? Cazzo! Aaaaaah! Vabbè, tutta la vita! Tutta la vita! M'affanculo. Quanti colpi ci voglio per farti ammazzare? Eh. Alphatim, questo è bravo! We're moving as fast as we can! Keep your panties on, everyone! Alphatim, guarda! Ma non si dice! No, sì, ma sono stato ottimista, Raiden. Sono stato ottimista. Gigi, cazzo. Aaaaaah! Aaaaaah! E vabbè, ma sempre così! Non è possibile! Alzami subito! Alzami subito! Ghezz! Alzami subito! Cosa? Cosa? Io non ci voglio credere. Cosa? Non ci voglio credere. Ma è dall'inizio della live che succedono solo a me queste morti! Ma... Ma eri in piedi? Eh, eh sì, mi è venuto addosso! Mi ha buttato ciò e mi ha fatto sta cosa! Niente! Oh, è la mia giornata oggi! È la mia giornata! Da... 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 Capo? Va bene, va bene. Oggi va bene a Gerry, va male a me, cazzo. No, vai via da lì, Gerry! Spostati da lì! No, vai via! Gerry, vai via da lì! E non lo capisce! Vai via da lì per la granata! Avevo l'animazione, avevo l'animazione! Oh mio Dio! Sono morto! Eh, io non mi posso alzare! Ma prima erano scesi tutti da lì, stavolta sono scesi tutti dietro di me, com'è successo? Infatti c'è un po' il barino e non ho sparato perché c'eri te, ho detto vabbè non spariamo che se facciamo peggio. Cazzo! E dove cazzo bisogna mettersi adesso? Potrebbero venire da ovunque! Qui ce n'è due! Qui ce n'è due! Solo due? Dai, fammi prendere quel corpo a corpo, finché sono fuori! Mamma mia! Ehm, arrivo! Ora vado! Niente! Fottete, cazzo! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Gioco rotto di merda! Nemmeno il big time event! Che funziona! Guarda lì! Vaffanculo tutti e due, cazzo! Niente! Nemmeno! È morto! No, non è vero! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Chi è che stanno stimando? Basta! Uuuuh! Vaffanculo! Osto! Meguminne mai colpe! Anchiaveco! Ma purezza, ma purezza! Niente! Nooo! Sai, sta scherzando! Va bene! Va bene! Va bene! Oh no 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 no! Va bene! Ma morisse almeno! Non dico che non deve apparire mai! Ma che morisse! Cazzo! Non c'è più il barile lì! Perché non c'è più? Niente! Sei curiosa, leggerli? No! Cazzo! Non è un problema di cure! Non è un problema di cure! Invece sì! Sì sì, no no no! Te lo dico, io non è un problema di cure! Ok! Ok! Oh! Micchia! Sì! Uccideteli, cazzo! 15 munizioni lì! Ma si trasformano senza testa e poi muoiono! Ma cosa sto vedendo? Ma basta! Ma li sento ancora? Dove sono? Eccolo! Mamma mia! Mazzino dietro, cazzo! Oddio! Oddio! Quanti ne arriva? Ah! È morto? Ok! Ma c'è a volte muoiono subito a volte ci mettono... Vabbè! Ma lo mazziamo quello che vola! Basta! Ma se... C'è le armi loro cazzo? Io sono senza munizioni da 10 minuti! Eh mi roba! Bravo, team! Bene! riserva mi sto cercando di conservare più che posso pure io qui mamma mia e li sto trovando un po' più qua vediamo se li trovo qui nulla ma sei riuscito a passare? si e non mi metzi in mezzo a loro ho trovato uno di pistola la pistola va bene, è il mitra che sta morendo un giochino zero da prima tipo io sto cercando di conservare quell'erbetta verde nella speranza che mi ridiano una rossa un giorno ma niente ma l'abbiamo già usata la rossa l'abbiamo usata inizio gioco ma ne voglio un'altra cazzo è passato un bel po' eh 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 dai sei eccessivo cazzo eh niente ma che pistola ne hai? cos'è? è normale è una pistola normale sembrava più grosso da vicino vaffanculo chico non vale, non vale, dai no 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 caaaazzo mamma mia li ho preso lo stesso aia ma lo stiamo ammazzando, suuuu niente, 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 niente... io e tu, io e tu io, e tu dove sei dove sei? Io non ero messo benissimo Ma dove cazzo eri? Niente non riesco Si mi ammazzano subito Quello mi ammazzano appena mi alzo Niente sono molto io No no non è vero Jerry Sta andando bene Jerry Non so come ho fatto a non morire Cosa cazzo è diventato quello Mamma mia Jerry Non ha idea Non mi copri non ci sei Ho capito ma io sono in la merda pure Ho capito ma A me se mi sparano anche Sono un colpetto del cazzo sono morto E' molto simile Oh mio dio quello mi segue con un mitra in mano ed è un cazzo di ragno Jerry è un cazzo di ragno E' al mitra L'hai ucciso era quello Un ragno con un cazzo di mitra in mano No no dai dai Ma non hai proprio vita Jerry Te l'ho detto che non ho visto Neanche una pasticchina neanche una piccola Niente basta droghe Niente Non riesci più a smettere cazzo poi Niente Mi tocca usare sta verde allora Vabbè Usa 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 vicino a me Usa usa Aaaaah Non ho proprio un HP caro Ma cosa sta facendo quello? No no non voglio neanche vederlo caro Guarda! No non voglio neanche sapere di chi parli Cosa questo? C'è uno che sta facendo giotto dall'altro militare Vieni a vedere qui invece Vieni a vedere qui Non lo vedi? Nooo Niente vediamo cose diverse Vediamo cose diverse Vabbè Dove dobbiamo andare? Aspetta sono confuso Che abbiamo... Entrambe le parti sono bugate Ma in bugate in modo diverso Vabbè Vabbè Riuscite a bugarsi due volte cazzo No vabbè No vabbè Di qua Di qua Di qua Dice di qua il GPS Niente Fidiamoci del GPS Eh ma sono venuti Dice qua Ah c'è la strada a sinistra cazzo Ok ok Da non c'è nulla No le danno l'erba non ti preoccupare Eh se mi danno quella rossa mi incazzo però eh No no stiamo andando Siamo proprio passato l'aria Già abbiamo passato l'aria Ma voglio vedere se non so se c'è la roba Eh ma tanto ci andremo lo spesso Ah ok Niente abilizza la mità Ma io voglio cambiare la visuale Che cazzo fai i salti? Pazzo di un uomo Questi? Ma così? Ma quelli sono passati dritti Ma Pazzo mi saranno soldati perché Oddio Oh oh Animale Oh Tieni Mamma mia Pazzo Ma che cosa succede? Ma vedi questo almeno sta combattendo Quello proprio neanche cazzo Ho fatto bene questo gioco mi dico Mamma mia AAA Ma no non aveva bisogno di faccia 1.0 1.1.0 1.1.0 Oddio AAAAA E niente Che succede? E niente Ma cosa sto riscando? In me senza Non c'era vedevo nulla da mia parte Che fastidio Ma allora perché mi danno la possibilità di rialzarmi se tanto devo morire appena mi rialzo scusa Io questo non capisco Fatemi morire e basta Fatemi morire e basta Fatemi morire e basta No da qui? Cazzo se da qui No questa missione offrirà mai cazzo Quante l'hai detto? 2? E' un ottimista cazzo Mamma mia E non muore quel coglione si trasforma che cazzo ti trasformi dopo 80.000 colpi Niente Niente Andate i soldati Ma perché i soldati non danno una mano? Ho capito che ho difficoltà inferno Però nel senso E' l'intelligenza artificiale che ho l'inferno Aia Niente Ho fatto uno screen per spy Non fare screen Jerry Non screenare nulla di questa merda Mamma mia Non salvare neanche le live cazzo Interrompo la live cazzo Sto confuso Ho libero un cazzo Sì sì le uccisi tutti No no il ragno dove? C'è un ragno qua No 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 le uccisi tutti certo Ok ok Mi sono incazzato e le uccisi tutti Fai poca vita è poca vita Non ce l'ho dall'inizio è una poca vita Non andare di qua Eh io ho perso tutta la vita colpa di quella merda lì che abbiamo fatto eh Io te lo dico Quale merda? Eh quella dove l'ho aggrappato tu devi coprirmi Niente Io dai io ho perso tutta la vita lì Eh dove vai a vedere la mia live come l'ho messo per sparare? Eh non so ma non do la colpa a te Dò la colpa al gioco perché è fatta male quella parte Non c'è niente là sopra Proviamo andare a vedere sotto dai magari c'è qualcosa Beh è proprio munizioni e erbe perché Lì dentro? Eh accecante vabbè I one shot quelli No 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 si continua si continua Ah E che cazzo arriva ad andare di la scusa? Eh ma sicuramente adesso dovremmo ristagli Ma sicuramente anche questi veniva anche dopo eh Io ricordo che si facevano tutti i piani alla fine Però vabbè forse è meglio farlo adesso e me lo troviamo subito la roba Oh qui c'è cazzo Qui c'erano munizioni eh? Eh ma sicuramente hai visto le munizioni non so Non lo so qua No punti punti Niente Anche qua giari anche qua Punti punti Munizioni? No Munizioni munizioni Dove dove? Vabbè a me quelli che tu hai aperto avevano munizioni per me Niente Niente Perché lo sanno che a me mi mancano cazzo è giusto Qui c'è dei sali su ora? Te Te Vabbè ho fatto un po' il piano di munizioni Tu hai fatto un piano di munizioni Ti ho fatto un piano di punti va bene Beh Che fai? Eh non lo so perché fa quello invece di cambiare la visuale Qui c'erano gli zombie petrificati eh? Ma dai il mio rubatore ha kill quell'altro Oddio mi ha freddo le casse grazie GG Che succede? Che succede? Basta Ma è ancora vivo Ma perché non stanno combattendo questi? Basta Abilità abilità accecante? Abilità 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 E niente ho mille accecanti io non so che cazzo servono Io non ci entro qui stavolta Non ti ci butto la bomba? Eh ma son rani Guarda mi colpiscono lo stesso Ah io ti ho ucciso veramente? Vabbè ok L'ho lanciato dentro vabbè Ok ok Dimmi che sono morti tutti cazzo Non è morto nessuno No 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 son morti tutti Ho più bombe che munizione Abilità? Abilità 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 Va bene va bene basta Non capisco perché non spannano mai herbe Dovrebbero spannare anche se è difficile Oddio come lo sto vedendo? E ora dobbiamo salvarli sai E' bellissimo questa cosa No è bello un cazzo Ok un è andato Dove è andato quell'altro cazzo? Ok Se la porta via Vabbè se la porta nella cuccia come il cane Vabbè 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 Terribile cazzo No Quanti cazzo sono? Tanti cazzo Oh e continuano ad entrarne Basta Posso? Mamma mia Delta 2 Delta 2 a coge Oddio Che pelo m'ha fatto questo Ma è vivo? Ok Ho ucciso Mi ho ucciso? No No Si si muori No 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 Non muori cazzo Non lo cure E' morto è morto è morto Le granate accicanti sono forti Ma contro di loro? E' assoluto che sono senza maschera se non sbaglio C'è un po' un casino rompergli la maschera puoi buttargli la granata Comunque ciao brando bentornato Non sto benissimo cazzo Non ho niente L'ho già usata quella quella di riserva perché tu mi hai buttato la bomba cazzo Niente Perché mi hai buttato la bomba Ma levati dai coglioni Non mi fa passare Guarda ancora qui eh Oddio Dio 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 Non lo voglio vicino io Ho fatto così cazzo A posto ci sono tutti i demorenti adesso Eeeh Io non posso andare vai tu Vado io quello lì sta buggando Dimi che è morto quello si È diventato antes showdown è diventato che c'erano i cazzo di ragni per lui Ok Lo sento c'era un'altra dove cazzo è? È quello lì con l'ostaggio lo devi seguire Jerry Ho capito c'ho po' la vita da non darmela sempre Ho preso Ok Mamma mia Che fatica Jerry Mamma mia E ho finito il mitra per salvarti il culo Eh niente Non lo facciamo a morire cazzo Dovevamo scendere Cazzo Eh vedi bisognava scendere nello stesso alla fine Ah sto meglio ora come mai Eh dopo la cazzo incire da non capì Non so non è questa la strada qua Ma dove cazzo stiamo andando no no Eh non Aspetta dove vede la porta da quella nascosta qua Ok Proprio munizioni cazzo che culo Ma è il piano ancora più sotto? Eh sì infatti hai detto qui dove siamo venuti noi eh Niente Eh il segnalino sembrava lì Non fare robe Mi ha visto mi ha visto Ma eccoci qua Cazzo Ho questo paule Quello col coso dentro Minchia C'erano due miei punti abilità cazzo L'avevo preso primi Non ti ho avvisato che c'era per quello sai Oddio mi sono resentivo è normale Tutti i hostagini su quattro cinque piazza Stiamo lasciando il bambino ora Ok Allora ci resta noi Dopo la storia di Chris potete anche buttare il gioco Ma veramente possiamo buttare anche questa eh Anzi questa più di tutte cazzo Vabbavia Può entrare la cittura se mi dimenti una mano Poi io? Eh sì sei Justin Bieber vai Niente Vabbè Deludere le tue fanger Ah no mi devi far salire anche tu No no ok Vieni anche te dai vieni anche io Ok dai Firmerò qualche autografo al posto tuo Attento Insomma No I'm fine Spry Anche te No Pesante Ma che cazzo Ma dobbiamo ucciderlo E io come ti vieni a salvare? Eh non puoi Cioè hai visto che gli hanno anche dato il tempo di ricaricare un altro missile Eh ti alzi da solo eh? Sì sì ho sognato Ok Ti guardo mentre ti alzi da solo Ok ok Apri sta merda che mi devo curare insieme a te Kat Altrimenti mi curo da solo Niente niente è finita Forse mi curo da solo Gianni mi dispiace E qui? Sì sì dai piano piano Come metti in copertura o? Eh mirando Ah ok Sì ma ok Va bene Non ti trasformare eh? Non gli sarebbe molto vantaggioso Ok Finiti? Ok Vieni vicino subito che devo usarlo eh Io vado Ok Ora si che si Mamma mia PORCATRUIA 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 E' diventato messicano Come loro No No qua andiamo di granate cazzo dai Non scherziamo Non ho preso nessuno Ok Ma cosa cazzo succede? C'è un problema dietro Ho notato Baffanculo Non muore Ho finito i colpi e non muore Ok Oh mio dio No fermo Jerry Non fare nulla Perchè? Non triggerarli La tirai la bomba Ok no aspetta Ok ora prova tu C'erano cinque ragni Sono tutti immobili Niente Ok Ok Non fa un cazzo Ma non fa un cazzo Niente Sei rialzato? Va bene BASTA BASTA Va bene Va bene Mamma mia Libra Svive Guarda sei stancato Chris Guarda Libra Mamma mia Mamma mia Andiamo via cazzo Non torniamo mai più Mamma mia Oh cazzo No sulla stessa Ma che è? Ah non sono sotto il rank Altre casse Alfa è ancora a premessa Bombing Un'inizio Quando si chiama Niente 40 abilità mi sta dando Così a casa Eh vabbè li usiamo dopo i punti Vabbè li usiamo dopo i punti Vabbè li usiamo dopo Li usiamo dopo Faccio il new game in plassa normale Bello che Dopo aver finito tutte quattro le campagne Avremo così tanti punti Cazzo Sento qualcuno urlare Oh che succede? Mi sparano Ma da dove? Ma da sotto Da sotto Maledetti Dove dovemmo scendere noi Dovemmo scendere da sotto Maledetti Eh si ingabata Ma ora non lo vedo Buttai una granata cazzo E la butto eh Ma non li vedo dove cazzo Mi prendono mi prendono Ok uno è morto Ma quest'altro mi riesce difficile sparargli però Lo vedo io Vado a massacrare cazzo Spare civile Spare civile Già fatto Oh Oddio ma è brutta Oddio ma è quella lì che abbiamo salvato sul treno È quella che cercava Peter È lei È lei È lei col vestito Comunque elegante No GG Io ho sparato a lei Lo sai No no l'hai colpita tu eh Io ho missato È lei Gerry È lei Guardala bene È lei L'abbiamo salvata Quindi la storia è un'inversamento Si è reincarnata e l'abbiamo salvata Ma può morire ora no? Niente Arta Niente Guarda se ne va Gerdy E' lo sca quella donna guardala Ma spartigli in testa cazzo Sopravvissuti zero Niente siamo rimasti qui Dobbiamo salire? Si ma non con questa andatura però Come no? Non ti piace? Ahah una scala Andiamo Gerdy Vado 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 Niente 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 Peers Madonna è cattivo Kiris Oddio Così? Ma perché? E ora? Niente ma è il nostro bombardamento questo Va bene uccidiamoci Forse dobbiamo correre Ma dobbiamo innescarle anche cazzo mi pare Oh cazzo No no di qua Come lo reggerà? Sono sicuro di si Si dai è programmato apposta No 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 di qua Come lo reggerà? GERRY! 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 Ok! Vabbè, c'era Pigs! No! No! Ora Pigs! Era giù lui, cazzo! Vabbè C'è, vabbè, non capisco! Fonculo adesso mi darà otto morti, cazzo! Non capisco! Dice che non ti ha... non ti ha arrivato l'alert dell'host di Nolan Non è arrivato l'alert dell'host? Eh, non lo so che da te È impossibile Finisce il video poi controllo No! No, questi no! Mamma mia quella lì si era pesante Ma penso che come trama secondo me quella di Chris è la migliore Proprio le parti giocate che fanno cagare È troppo action, cazzo, Resident Evil Sì Niente, mi danno B! 5 morti 5 morti Va bene! Va bene! Avete visto un liquid con 5 morti su un Resident Evil? Avete visto un liquid bullizzato dall'inizio alla fine Precisione 66% Dall'inizio alla fine Nei amici eliminati siamo quasi uguali No, no, ne ho più di... Ne ho più io, non per i coglioni Almeno quello me lo concedi, cazzo Il tempo abbiamo fatto uguale, il tempo Va bene, va bene, dai, va bene Dai, il prossimo capitolo muoio io, dai, non ti preoccupare Dai, dai Fammi vedere un attimo La visione che hai avuto all'inizio era di te che morivi, cazzo Non era E ho visto una luce bianca con qualcuno che moriva 5 morti C'è scritto Nolan haustato con un, con un, con un viewer, Nolan L'alert non è partito perché ti ha, ti ha letto soltanto un viewer Ah, re, wa, da redda Da redda C'erano 12 persone, niente Forse non è partito Cioè non è partito davvero, anche perché non me le indica le persone Da ancora 7 persone Chissà che cazzo è successo Forse te li ha mandati su un altro canale, in realtà No, no Mamma mia Mamma mia Mamma mia Vabbè che le 5 morti e 2 sarebbero in comune, eh Non me ne frega un cazzo Quelli lì sono in comune No, 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 no Sarebbero 5 e 3 Che cazzo, oi Se io cado dal palo dovrebbero dartela anche a te la morte Sei tu che devi ricoprirmi Io ho giocato come un pro Sì, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Senza curarmi, cazzo Ma comunque c'è l'estensione che fa l'host da solo, ragazzi Ma se cliccare il tasto host è l'host da solo senza fare slash Io faccio da lì No, ma comunque non sono arrivate le persone Non so dove sono, dove sono arrivate ma non sono arrivate a me Sono in un buco dimensionale, cazzo Mamma mia Recuperate Ah, no.. I BSAAR Il nostro lavoro è di ridurre il mondo del bioterroristico Comunque grazie nooo nooo Ma scusate, ma è in queste campagna che ci sono qui giganti? No, oddio Ho dei flashback Li Jerry sono qui giganti Il fatto che te lo ricordi anche tu mi preoccupa Vuol dire che era davvero difficile quella parte Cazzo se siamo morti un buonetello di volte con un detto Non hai idea di un inferno che cosa è quella parte Perché non hai idea di quanto sono difficili i quick time event per ucciderlo Arriva così Juavo Lui non muore mai questo qua che c'ha in mano Questa Niente Mi sto ricordando più la sua campagna che quella di Lyon E poi io preferisco Lyon a Chris Sotto sotto in realtà preferisci Chris No no Ma tranquillo non muorirai Mi è già morto E vabbè Grandioso Mamma mia che parte di merda No in realtà era carina qui Ci sono i nemici che fanno schifo No non è la brutta No non lo superiamo mai questa Va bene Va bene Grazie Grazie per ricorarmi Arrenditi cazzo Va bene Va bene Nascere turno si arrende Cosa succede? No 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 Eccoli già si trasformano Già si trasformano e già cominciano a non morire Ma che cazzo mi ha colpito la gioco da pussi stavolta io te lo dico subito mi cambia arma grazie niente non si mette come voglio alla fine non la sto giocando da pussi baffanculo va bene va bene attento jerry mamma mia tutti nelle valle e tutti i giorni non mi hanno dato erba ma erba non te la daranno mai va bene vado da un spacciatore qualsiasi cazzo va bene va bene io riesco a uccidere quello sulla torretta laggiù a quello non penso possa morire mi ricordo una roba scriptata ma forse mi sbaglio si ma questo vuole morire questo qui basta che succede no no euro per ammazzarlo ma me la sto scherzo no 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 sta indietro vado avanti ma smetterà per un attimo di sparare cazzo mamma mia no 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 continuo continuo c'ho un mezzo hp aspera che c'è uno con l'rpg cazzo non venire io prima volta ho morto venti volte per capire come girare le levette per riempire più in fretta possibile la barra del gigante ricordo c'era una quella levetta molto difficile quel gigante niente risalzato il coglione mi da due ore che sparo a quello tutti i colpi alla testa sono tutti i colpi alla testa e ancora va bene vedi che fa l'animazione del colpo alla testa non muore fai morto mamma mia sì ma io tutti i colpi che avevo gli ho sparato a quello adesso non li avrebbero mai indietro niente dai ma non è normale sta cosa uccidi quel cosa jerry non si può è ucciso uno con un lanciapissi non è proprio ucciso con un mitra però mi sta sparando cazzo no no è impensabile farlo ok qualche critiche esistono allora mamma mia sì 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 quella esistono uuuuh babbia eeeh l'amico qui russo russo russoce dai via ma ok dai ha sparato subito ma quale prontezza vaffanculo siete versati facili ora prima no avete affrontato anche prima come non servono no, non li hanno affrontati prima del passato è bello che abbiamo le munizioni che avevamo nel primo cazzo oh, è rossa eh, ormai la verde l'ho usata anni fa c'è una cosa positiva della campagna di Chris non avrai mai l'inventario pieno wow sono contentissimo ma rompigli la testa in altri modi perché devi fare tutta sta cosa dove sei c'è uno che mi sta minacciando lascialo stare, non guardarlo mi minacciavo col coltello non è morto bastardo mi ha tagliato la gola non lo fare mai più non lo farà più Jerry non lo farà più ma Dio Brand è quello di Jojo? sì, è quello di Jojo con Jake avevo distrutto il pad nonno mia oh, è vero che qui c'era l'arma dovevamo tornare dopo indietro a prenderla perché adesso succede una cosa brutta dove dobbiamo scappare perché c'è un gigante che ci segue spoiler eh, spoiler niente le locuste niente niente li devono mettere guarda che schifo ma è un Eva dai, i giganti sono sempre belli c'è da dire gli sparo, gli sparo eh non si può buttarti la porta quindi eh, sta per lanciare qualcosa l'ha lanciata a te per fortuna mamma mia, veramente l'ha assoluta la mira ma io pure ti spareca a colpi eh, io non lo so di lo spara io o no eh, quello dobbiamo non sparare è molto vicino comunque è molto vicino ma romperà il ponte e poi scapperemo no? eh, ti ho sprecato colpi sprecato colpi eh, vabbè ora bisogna correre ma la biologica è enorme no, forse non bisogna ci voleva il martello dell'alba ci voleva basta, dire cose che non capisco c'è gherzo fuori, gherzo fuori niente oddio, non si fa di qua? sale, sale non c'è vado lento vado lento vado lento oh, oh, munizioni tanto qui non puoi entrare dai entra con le braccia entra con le braccia entra con le braccia ZERRY no, no, non può è quello questo qui chi è allora? oddio, questo è problema attento cazzo cazzo oddio, non vedevo ma come non vedevi? non vedevo, stavo guardando il gigante ma dai, ho perso tutta la vita ma siamo usciti qui, perché? eeeh io non esco, cazzo io rientro, cazzo ah, qui sparate, dice di operando sicuro? c'è scritto che dobbiamo aspettare prima diceva di sparare cazzo, c'è una zombie un'arma biologica, scusate ma cosa? ma non è vero non è vero basta, Jerry, dai ma mi bullano che poi tu muori poche volte solo perché io ti salvo sempre vabbè, e te muori in posizioni impossibili, cazzo eeeh, vabbè io sono io adesso ma l'hai ucciso? non l'ho più visto non l'ho ucciso ma non l'ho più visto ha dato un pugno e è andato via la vendetta dov'è, cazzo ha dato un pugno e è andato via, cazzo ha dato stronzo ha dato un pugno e è tornato in strada oh, c'ha buoni storie però questa aspetta a me punti mi ho presi lo stesso oh, non mi vedo, senti di sparro? e però mi indica là sopra dove vedono sbagli veramente là sopra? oddio, hai fatto una cosa? ma che c'ho da assurire? eeeh, sto andando io all'io, le finestre, le finestre invece lo faccio aeeh, non mi ricordavo che eraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa niente niente addio Gerry, addio addio ma sei morto tu eeeh E' morto! E' morto lui! E' morto lui! ERA TERRA! Sono morto anch'io però adesso, sentitori, anche... che gnonio, andando capò... ERA TERRA! Ma quanta vita avevi? Zero! Ah, allora è per quello... Eh sì, quando hai c'è Zara è inutile, se ti vengono vicini fanno quella... 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 quella cazzo e ne ti uccido Niente, non mi vado a salire perchè stai salendo te! No, è impossibile che si farà vivo questo, dai! E invece... Era meglio dall'altra parte però! Eh sì, sì, è finita! Sì, ma io posso da dietro, chi me lo va a fare, scusa! Attento che sta salendo un altro che non è uno di noi! Come, non sei te? Niente, mi sparano, cazzo! Poi perchè qui c'è la cento, eh, qui dentro! Ah, magari non sono loro che arrivano, si? Oh, cazzo! Mamma mia! Ok! Gli provo a sparare? Vai, vai, io sono lì! Stavolta mi ricordo il tasto! Quello deve stare fermo! Ho visto il colpo, ho visto il colpo! Eh, però se mi è preso di me non posso! Ok, bravo, sei lì! No, no, ce l'ha con me tanto, però... Bari? Forse l'ho preso? Vado, vado! Tanto che c'è uno che sta arrivando! L'ho visto, l'ho visto! Niente! Chi cazzo è questo? Non ti posso salvare, Jerry! No, no, provo via, provo via! Un'altra giornata nel colpo di ricerca? Ti buttano sotto adesso! No, no, sono nelle scale, sono nelle scale! Guarda, scappa via, Jerry! Niente! Io non ho paura, cazzo! Mi ha sentiti quei colpi? Sono vivo, sono vivo! Ma attento! Mamma mia! Mi è blindato, ma così investito! Erano enormi! Ci stanno dando roba nuova! Niente! Sti termini con Resident Evil, cazzo! Qui c'ho i manga di Resident Evil, no? C'è anche Chris, mi pare! Sì, c'è Chris! Lì o no, cazzo! No, non credo siano ufficiali, però! Come non sono ufficiali? In che senso? Non ho mai sentito parlare di fumo! Eeeeee! Ma vabbè! Mi fa paura il cazzo di blindato, vai avanti! Ma chi sta sparando? Ma non lo sto sparando io! No, lui è chi sta sparando! Sta sparando per terra! Guarda! Ma lo vedi? E' pazzo, è pazzo! E' Finn, è Finn! E' quello che non morirà di certo, vedi? C'è le abilità! Ma cosa? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo? Dai, Jerry, allora, ancora qui a terra sei! Basta cercare i funghi! Ehi, vabbè, me ne sto indietro! La faccio l'ultimo, l'ultimo! E' peggio, è peggio, Jerry, ripeto! Niente, che cosa devo fare allora? Vedo tutto rosso, non distingo le cose, non distingo! Guarda, mi arriva un minicicciolo e muoio, guarda! No, no, Jerry, vabbè! No, 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 Jerry, no, no! No, no, Jerry, no, no! No, no, Jerry, no, no! No, 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 v'ammazzo da solo, vedrai! Non è che c'ho erba io, no! Cazzo, sta sparando! A me sparano! Oh, merda, ce ne so due! Eh, non riesco ad uscire perché si sincronizzano! GG! Quell'altro andava... No, veramente? Ma era morto! Ma io ho rotto la testa! Ah no, è una roba che fa prima di morire, mi sa! Ma posso? Allontanati che sennò t'ammazzo! Ma ha ammazzato anche l'amico? No, l'amico era sinistra! Ha cambiato zona! No, è morto! Più da qui non lo vedo! È morto, no? Farfalla? Farfalla ha fatto le spori ed è morta, Jerry, tranquillo! Ok, ok! Ma c'è una parte che uno deve fare da solo, ma non mi ricordo chi! Beh, è nemico o amico quello? Non capisco un cazzo, sono rosso! Quale? Guarda, già! Boh, ce ne erano sopra da noi, lì sulle... No, quello non era assolutamente amico! Ok, l'ho fatto bene, oddio! Niente, è un minanticarro! Ok! Ok! No, 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 no! Mamma mia! Ah! Cecchini! No, no, non ti puoi trasformare davanti a me! Ok, ok! Mamma mia! Jerry, quel cecchino lì sopra a destra! Cecchino sopra a destra, eh? Ok, è morto! Che tu non hai idea come sto vedendo ora la visuale, non vedo un cazzo, non vedo! Non farti abbracciare da nessuno, cioè, non farti avvicinare a nessuno, cazzo! Non ce n'era bisogno, non ce n'era bisogno! Hai visto? Un capitolo per ciascuno, Jerry! Anche da lontano, non c'è bisogno che mi abbracciano! Mi hai dato un culpo qui in te, cazzo! Era un abbraccio lontano! Un abbraccio a Wyatt! Non lo vuoi fare, mi abbracciato! Almeno ora vedo, cazzo! Ma f***, di te la mia anticarro! No! Muori, cazzo, muori per me! Dai, dove siamo arrivando sul tetto, so! Uh, riesco, vedo anche quelli nelle coperture, guarda, Luigi! Dovresti veni qua tu, che c'è il cecchino, eh! Dove sei, dove sei? Non mi dice la calasso! Uh! Uh! Pazzo, bastardo! Sto scavacando, occhio! Mi hai spinto! Ha detto! Vabbè! 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 Dove, dove? Hanno preso Jerry! Ma no, sei scansato l'ho preso! Niente! Io me ne vado da qui, Jerry! Vedi tu poi! No, no, rimango, dai! Rimango, 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 rimango al combatto! Vado via io! Vado via io! Vado via io! Ma l'ho ucciso, l'ho ucciso! Ma è vero, arrivano fuori colpi! Ma non dallo stesso! Ma è sotto l'altro? Non riesco a capire! Non lo vedo! Non ho capito il coso! Ma dove cazzo è niente? No, devo andare via! Mi avevo un colpo e muoio! Non riesco a capire! Non è che è qua sotto? Ma è questo? No! C'è un mitra! Ah no! È lui! È lui! È questo qui! Ok, è ucciso! Niente! Stappatore Spore! Niente! Quello si trasforma col braccio di cazzo! Cazzo! Merda! Morissero però! Non chiedo tanto! Chiedo solo di morire! Ok! Uff! Che fatica! Mamma mia! Ma ancora c'è qualcuno? Questo? Ma cosa ci fa? Ma è ancora vivo! Era il cecchino! Due le idee di quanto ne arrivano! Via 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 di qua cazzo! Via di qua! Mamma mia! Mamma mia! Oddio! Pensavo fossi tu! Jerry! 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 Vabbè! Sono tutti qui! Pensavo non arrivassero! Addio! Jerry! E niente! Tu stavano avvicinarsi! E cazzo! E niente! Ma non è che mi sono avvicinato! Io ero già lì! E l'unico riporogo che ho trovato era quello! Non potevo fa niente! No! Dovevi tornare indietro a corsa! Io sono tornato indietro a corsa! Ma ero troppo avanti per andare indietro! Niente! Da capo! Vabbò via! Ma quello è senza testa! È ancora qui! Cosa fa? Oh! È morto! Non se n'era accorta dai! Non se n'era accorta! È rimasto lì immobile! Prima a guardare il paesaggio! Ma sta muorendo questo? Ragazzi! C'è uno! Alle gambe! No! Alle gambe! Qui! Niente! I due segni arrivano a sparare soldati! Vabbè! Ma quelli! I secchini arrivano e sparano subito! Immediatamente! Non è che pensano! Ma lo devo mirare! Prima! No! Sparano e mi prendono! Mamma mia! Ma questo io è ancora vivo! Ma quale? Jerry! Quale? È morto! Io ho sparato io, Jerry! Un corpo è morto! È morto! Tutto i colpi ho sparato! Posto? Che è quello? Un secchino! Sì! Sì! Oh! Ora! Deve arrivare i cannon! No! C'è chi non sopra! morto no ora si fare sport no che cosa diventa fare sport fare sport vabbè fare sport fammi vieni da te che tanto che vanno da lì arrivano dove stai andando? sei al po' vicino no? oddio ma ancora vivo ce n'è uno dove? sopra cazzo non è lo stesso di prima bisogna triggerarli prima jerry non se non arriva no lo ha scavalcato sto coglione niente è scontino a scavalcare oh l'ha capito jerry che c'è? ok è quello 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 sta venendo da me ok mamma mia mamma mia non c'è niente non c'è cure non c'è munizio eh cure su stronza non guarda c'ho ancora la serba rossa qui non c'è munizione la sopra non vado a vedere ma non appagano le stesse cose tre abilità tre abilità niente io ho 0 di mitra e due colpi del cecchino niente anzi no 10 colpi del mitra no del mitra sto messo bene dai 75 35 pistole vabbè ok secondo me le mie le prende lui a questo punto no per me non le stai conservare jerry no 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 vi bisogna coprirlo si è finita copri fin meccowley pure si è ripeto finchè non si avvicinano non sono un problema si ma gli stanno sparando dall'alzo però no non gli fanno un cazzo immortale però a me mi triggera ok oddio oddio da sotto si l'ho visto ma cosa ma né vulnerabilità va bene si sta avvicinando non mi può colpire da qui non mi può colpire no 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 qui sono qua sono qua spore spore no 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 eh questo qui nella nube è arrivato niente niente non dice munizioni in mezzo io le prendo così cazzo ok ma il tizio col lrpg è morto? si l'ho ammazzato io ah ok era quello che mi stava preoccupando no 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 è morto sul no no è morto sul ma il mio personale si ha fatto cose strane niente la viola cecanti vabbè eh si si è tipo immobilizzato non si muoveva più mi stava per colpire niente mi stava in mano mamma mia ma è ancora vivo? liquido ancora vivo gli ho dato le spalle ma come? ma io ho cacchinato cazzo ma è scemo? ma smettila no è fortissimo non è che è scemo ma cosa? guarda ah ok vabbè a questo punto copertura un cazzo bisogna ucciderli tutti e basta dai ho capito ma ce la sta facendo? la donna e non vedo un cazzo che visuale di merda il cecchino c'era papapia passa gerry mamma mia ok che fatica che fatica ma ce la stiamo facendo in qualche modo ce la stiamo facendo cazzo mamma mia notte giacco niente mi sa che sei andato di coltello tra poco eh e non c'ero nemmeno quello io guarda vuoi il mio? eh si si dai 0 colpi di cecchino e 10 di mitra ma chi è che doveva fare la parte da sola ero io vero? speriamo cazzo niente niente 10 munizioni che devo fare io te le danno gerry te le danno non mi danno un cazzo mi stanno bullando stanno facendo merda di me cazzo non è tutto sommato sono uscito a conservarmi le per tutto il tempo non sono mai rimasto il senso e vedi ah ti devo buttar di là si devo farla da solo cioè di entrambi in realtà ma tu c'hai meno roba tu mi devi coprire col cecchino nooo munizioni mi devi coprire col cecchino zitto crea farmale va bene va bene cazzo non capisco che sta succedendo penso che tu sia morto capitano di qui anche io aia puttana cosa mi so preso in testa ma sei vivo è vero che noi siamo in due eh comunque però lui sta fallendo ok c'hai con noi? no no c'è uno con me però mi... ok ok a posto adesso non ho più vita nemmeno io mi è caduto un baule in testa per su tutto no 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 chris cristo dai ecc наверное e? tutto bene non parli più ste andando davanti a bombe niente niente che io mi unire terzo non ero mai stato comunsque et trucs mamma mia no 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 ce li movono ammazzalo te per favore ma stiamo in due lo stai ignorando liquid E' un bot! Serio? Ovvio che lo ignorano! Nooo! Niente! Ma che armato mi spara? No, vero? Per bellezza! Cazzo, se mi spara! A me che fatica! A me che fatica! Nooo! Nooo! Le gambe corazzate! Nooo! Tutto ma non le gambe! Si si, le gambe corazzate l'ho trovato io! Ok Mettiamo questa va? Non facciamo rischi! Bobabia! E' morto senza capire un cazzo quello! Non puoi capire cosa sta succedendo qua! Poi dovrei vedere la resta parte perché... La guardo, la guardo! Una granata? Va bene! Sono in copertura che lancio granate lì qui! Cacciacanti! Poi è tutto! E tu dovresti secchiare aiutarmi ma mi sa che non... non dovrò contare su di te, vero? No! No! Prima o poi uno rimbalzava e tornava indietro! Nooo! Così no, Jerry! Così no, cazzo! Dai! E' tornata la normalità il Joker! Così no! Oh! Bah! Spiame troppo la munizione facendo le bombe... Vabbè... Ho capito, io più di così che devo fare? Oh, che cazzo? Merda, non ho più vita! Come sta andando, Jerry? Come sta andando? Fai, fammi concentrare, aspetta. Fa un culo, prima quello non si era triggerato. Ok, che cazzo, che cazzo. Ci mettiamo una vita qui, eh? Qui ci mettiamo veramente una vita. Sì, 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 no, devo farmelo con calma perché non c'è le bombe e star attento a non splodere. Le bombe, cazzo, le bombe sta usando. Meno male che ne avevo tante. Cazzo, 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 cazzo. Ma cazzo, cazzo. Non mi necessario di una più grande gun. Capitano, se provi a prendere un'altra posizione... Ma dove cazzo è questo? Non è possibile! Sì, lui si occupa del carro, nel carro, niente. Ma da dove vengono questi? Se Chris non impazzisce, prova ad aiutarti, ma... Ma dov'è il mio compagno? Niente. Ma quale compagno? Sono il tuo compagno. No, c'era uno con me, lì qui. Ho colpito qualcuno? Non so, non vedo cose strane. Io da qui... Aiuto! Niente, perché guardavo te, cazzo. Dove sei, dove sei? Dove è quello lì che sta sparando? No, no, ce la faccio, ce la faccio. Però devi distruggere il carro adesso, Jerry. E ne è arrivato un altro all'improvviso! Questo non c'era! Questo non c'era! È arrivato dopo di corsa... E hai fatto la parte delle bombe? No, 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 ha checkpointato, ho visto. Ok, perché le dovevano essere tutte calcolate, ok. Dov'è? Dove sei tu? Da me è cambiato poco, in realtà. Jerry, devi rifare tutto. No, no, no. Ok. Ma non è vero! Ma come? Ok, ora sono io. Ma come? Come è successo? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Ah, posto. A posto. Di nuovo con la vida a penzoloni. Ha ha. Non è vero, io sto facoltando lì sul fonte, questo va bene il fucile. Salla che sta tremando la mano o po... scuola capisci l'autobotto di attraverso armare per capito non credo di tanto famigli ora verso vedi qualcosa vedo un'esopera il testo che non ci riesco forse ho preso sono arrivato a me ammazzati me l'hai trasformato me l'hai trasformato me l'hai trasformato tutti me li hai trasformati tutti tutti li hai trasformati eh gary volevo darti copertura niente ho fatto bene non so cosa devo fare tu spara la testa non hai arti tu non hai idea di come mi trema la mano è un cazzo di ascensore è già è difficile colpirli figurati in testa non colpirli allora se non riesci a colpirli in testa non colpirli se non si trasformano no non colpirli no non colpirli no non ci sono arrivano lampi incredibili vabbè due me ne arrivano da qua così a caso tecnici anche se c'è c'è cosa è a lui mi sembra che sono io c'è pure a cui c'è pure non posso fa un cazzo io qui non sono in sono fottuto sono semplicemente fottuto qualsiasi cosa mi affaccio mi arrivano missili ma che non è vero erano due erano due come sta andando no non chiederlo come sta andando non è vero pittana sto capitolo di merda e poi ci sono i giganti non abbiamo colpi ma prima ne sono sparati due per tre volte di seguito ora è arrivato il terzo così a caso Sì, perchè sparrano in continuazione Anche da me prima erano finiti Adesso è stra pieno Eh, ma non riesco a sparare la giu Niente, è già arrivato Dimmi quanto puoi mirare il camion Così il carro Così la smetto di spostarlo per niente Ma appena riesco a liberarmi di loro Vediamo, eh Cazzo Ok, sono in posizione Aspetta Mi arrivano granate No dai, no Sono io, sta tranquillo ogni volta Mi arriva gente all'improvviso Mi arriva, non lo so L'hai preso? Sì Sono morto Eh, io, io, io vorrei sparare No, no, voglio io, cazzo Ora che succede? Merda, alzati, dai Ok Va bene Dai, pure le gambe Trasformati Ha due mutazioni questa Ha un braccio diverso No, mi sta arrivando a cadere un mutaforno Puttana Mi sparano Oddio Niente, le fa cose strane Christine Che fai cose strane Mi ha preso Mi ha preso Cioè, hai visto come era mutato quello? Guardalo Io dove cazzo devo spararli a quello? Ma era la servizione perfetta Era la servizione super Aveva l'arma a lunga distanza e lo scudo praticamente Era invincibile Mancava solo che le trasformasse anche le gambe No, da qui non Eh, oh, non ce la faccio Io non ho vita Non hanno mai dato vita Dove? Dove è l'altro? Che poveri delle spalle Non hanno mai dato vita Figli di puttana Che paura Che paura, cazzo Mamma mia, il volo l'ho preso Mi saluto Ecco, penso a me che arrivava ora Ma era lui Cosa, Cristo, mi colpisce ogni volta Ma che fastidio Che cazzo, madonna Non puoi capir fastidio Io sto mirando tutto tranquillo E poi a un certo punto vado giù Ma il carro ti ha distrutto? Sì, sì È morto subito Sì, ero in un attimo Mentre mi sparavo Non l'ho colpito Riesci a vedere i cecchini Che si sono lì sopra, Gerry? Eeeh, io ho due Con le gambe corazzate Che mi stanno vedendo in culo E non ho munizioni Ma puoi uccidere il cecchino, Gerry? No, no Non ho munizioni Ma sei sicuro che non puoi colpire il cecchino? No, no, no Gli lancio questi Con le gambe corazzate Spara lì con il fucile Yeah Perché io non vedo un cazzo E allora vi sta ennebbiata Sto sparando a un attizio cecchino Quella vi sta ennebbiata Allora, sul ponte Sopra dove è distrutto il carro Sulla destra Perché io devo sparare con il mitra? Non ho il cecchino Quindi sparo senza... Beh no, allora che cazzo cambia Tantale che ci provo io E niente, allora Anche quelle munizioni è basso Ma lo sto colpendo, ma non muo... Dai, muori figlio di puttana Brutto figlio di puttana Alleluia Non ce ne sono altri Perché io non li vedo se ce ne sono altri Non vedo veramente un cazzo Ti prego fai un checkpoint, cazzo Ma è la testa rotta Ma... E niente Non morire, Jerry, ti prego Non lo so, non te lo assicuro Fai quello che vuoi, Jerry, ma non morire Perché quel compito aspetta a me Adesso salgo e morirò sicuro No, mi sa che devi fare tutta la strada E arrivare qui da me Cioè, lo so, ma devo farlo con le bombe di nuovo Eh, se vedessi... Cioè, li vedo anche da qua Li vedo anche da qua Ma... Non ci vedo Non posso sparare, non ci vedo Ok Ok, checkpoint Non ti trasformare, eh? Mamma mia Mamma mia Cazzo Che c'è? Sono qui e stanno già sparando Verso di te, mi sa Ma come verso di me? No, no Un altro checkpoint, dai, dai Ti vedo, Jerry Oh mio dio È andato 20 minuti questa cazzo di parte Mamma mia Io mi piazzo dentro il container, Jerry, mi troverai lì No, dai, non ci credo, si sta trasformando Sto sentendo cose che si trasformano accanto a me Forse è lo stesso No, 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 no Jerry, ti vedo Aspetta, aspetta, aspetta Uccidi quello stronzo È quello che ti sparava È lì Puttana, che paura che mi so preso Ma tu non hai idea, cazzo Sono morti, dimmi che sono morti, cazzo Dimmi che è balsa la pena, ma Non li vedo, non li vedo Ok Jerry, Jerry, sono qui, Jerry Non ti posso raggiungere, Jerry Ah, mi alza Hai riposato due secondi, ok Ti butto una granata, Jerry No, no, basta granate, basta granate, cazzo Ho finito tutto ora le granate Dove devo andare, aspetta Devi scendere, mi sa Io ti abbasso sta scala Ecco qua Ti vengo incontro, va Stiamo vicini, cazzo Vieni qui Hai una pasticchina, Jerry Nulla, vuoto, una rossa, ne ho Una rossa e basta Hai una pasticchina, Jerry Nulla Non puoi vomitarne una e tarne Aspetta, mi fio di singola Aspetta, la cara del fricilingua L'hai visto in fio di singola Niente Due uomini distrutti Due uomini distrutti Che hanno fallito nella vita, cazzo Mamma mia Per me arriva roba adesso Ho paura che stia per arrivare roba E come cazzo la fruttiamo? Non lo so Spero che mi ridiano almeno un HP, cazzo Capitano Sì, sì, ti aiuto Ok, un HP Vedo ancora i colori Sì, sì, oh mio Dio Vedo i colori Sbaglio Oh, alleati Niente Vabbè Io lo distrago, tu gli spari dietro, quindi Cosa sto vedendo No, lasciamo indietro tutti Sono più al sicuro se rimango in India Ragazzi, se sapete già, ma porto notizie grosse Bancarotta per la tail tail Chiusi i battenti e cancelli i progetti Rimane solo The Walking Dead che verrà chiuso da un piccolo team di 25 persone Minchia Come mai mancarotta? Ma così, di cattiveria? Madonna Ma come mai? Ma verrà chiuso nel senso che lo finiranno Ma che sto vedendo? Ma sono nemici? Scazzo se lo sono Colpa da cadute? Colpa da cadute Ma sto vedendo giusto? Sì Ti farà? Le trashatte non erano ancora finite Io pensavo che dopo il T-Rex niente Invece Niente, che paolo muori Vabbè, colpa da cadute Io pensavo che non ho supporto Ho detto, ok, arriva l'Erdrope Arriva l'Erdrope Stai abbassato, Ceri, se no non lo vedo Vai, vai Cancellati i giochi di... Oddio, sono ignorante, non so cos'è quel gioco È Stranger Pink! Sei... serio? Spore No, Stranger Pink è la pensare mi interessata Aiaiaiaio Mi piace un casino quella sera Oddio adiodio Che Whoops Non newspapers Lo sto caricando, cazzo Vai così vai così È morto, è morto, tranquillo È morto Ah, Wolf from One Gas Beh, Wolf from One Gas, come minimo È morto È morto Se è morta, la T-Stare Mio Dio Ma cosi, come all'improvviso Cioè, si sono accorti dopo che non avevano più soldi per fare giochi va bene ragazzi c'è un problema sono finiti i soldi ne abbiamo venuto in bordello io ho zero munizioni zero di vita no io ho ancora ancora quella hp però voglio le munizioni qua cazzo le voglio le esigo ok via 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 le ho prese le ho prese dove dobbiamo andare via signore dove no no bisogna uccido bisogna andare via maria c'è fine che sta portando via il ferito ok la gente che ci lavorava si è iniziato accorgere che noi arrivavano gli stipendi si decisamente ho un deja vu di questa cosa no 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 ci sono io ci sono io ma no è passato ma è andato via poteva vincere quello niente no 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 è quello che allunga il bravo che è morto è morto è morto zerry ma davvero non hai un colpo un colpo e davanti invece cinque di abilità cinque cose di abilità niente ce l'abbiamo fatta via ma anch'io posso salvarmi sì vai via sì anche tu non ti lasciamo qui tranquillo piazza gli esplosivi ma devo farlo io ho capito ma c'è la cazzo in evvivo ancora c'è fin davanti fin cazzo la battita i coglioni niente niente cosa sta succede ora leggo ora leggo no ora leggo allora cancellati i giochi di the wolf among us 2 stranger finis non hanno i soldi per pagare la gente ma ancora totale faranno giusto l'ultima solita perché in quanto si sa al momento come la stu e la gente che ci ne abbonava si è iniziato d'accordo che mi arriva gli stipendi dai sono contento che almeno finiscono the walking dead ma scusami ma ha venduto tanto no la la abbastanza si c'è quello che non capisco il primo the walking dead è stato anche gioco dell'anno allora io non sono ignorante infatti giochi non so quanto costa a creare un gioco come quelli però non è c'è la mod vero liquid guarda guarda non me li guarderò guarderò dopo niente rovina la cazzo va bene va bene la scuola di nuovo te direi c'è come lo stanno trasportando qui come un sacco di merda bro lo sganciano come un sacco di merda non è che lo appoggiano lo buttano proprio ma pure il codino gli hanno fatto e la caca di arale niente rivede la moda e ride niente è così fuori posto mamma stavarto cosa dobbiamo fare qua uccidere il gigante no no non possiamo ucciderlo no 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 è blindato vabbè le torrette prima le torrette qui c'è roba lì qui ma che cazzo jerry jerry non mi fanno passare c'erano i nostri dai mi hanno appena salvato il culo i nostri quindi lascia di stare eh ma niente chiedi loro questa volta jerry ma ce n'è uno che non è della nostra squadra è arrivato insieme a sherry si sono infiltrati ma anche quello ma questo ma ancora ma basta entrare così questi ma basta ma vaffanculo ma ancora che è entrata di qui tra le denti bastardi è morto? no e ne è sceso anche un altro jerry dietro jerry mi ha preso jerry mi ha preso jerry ma che cazzo aspetti jerry è stanchissimo io ne volevo dire no no non è possibile sono stanchissimo sono stanchissimo guarda qua già arrivano proprio da 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 che si è rotti i coglioni no? che cacetti stanchissimi ma non è possibile che ce ne ho così tanti dai sono stanco solo il coltello ora mi sa che è così finché non distruggiamo quella torretta niente ce la sta facendo Finn ce la fa sì? è a metà è a metà un po' più di metà dai mamma mia oddio mi ha ammazzato la moto cazzo ma non c'è più è andata via è andata via è di sotto è di sotto mamma mia oh dove dove? dietro a me no 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 fermo 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 non andare troppo indietro che ti ammazzano stai qui stai qui stai qui mamma mia dai qui c'è cazzo aspetta aspetta che non c'è munizioni no abilità a posto sparagli al codino cazzo ma te ne vedi delle cose luminescenti c'è l'essi? dove? mi sa che sono gli effetti della moto vicino al gigante mi sa che sono gli effetti della moto vicino al gigante gli effetti della moto cosa cazzo hai messo? vedo delle cose che posso sparare vicino al gigante ma perchè non ci incula e continua a guardare con gli altri va bene ammazza loro allora bastardo no 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 la moto è bella dai si vede da qua aspetta ma si è fulminato da solo guarda che coglione e si è appoggiato lì e non c'è nessuno ad ucciderlo lì niente no dobbiamo scendere dai dobbiamo scendere si quello per forza ormai eh chi ci arriva l'ora? potremmo ucciderlo tanto bene da lì invece niente cazzo munizione eh la mod poteva andare lì eh si è alzato la mod niente sarà la mod per lui è posto l'ha presa in pieno non hai idea di quanto cazzo gli ha fatto male vado io vado io vado io vado io vai vai non so che tasto è no laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa niente niente gerry salvami gerry salvami gerry salvami gerry salvami mi sto sparando liquidi sto sparando non gli fiega niente no non devi salvarmi una volta che mi ha buttato a terra gerry ahahah Non mi molla Guarda dove cazzo ti ha messo Non mi molla Mi ha fatto malissimo Adesso ci provi Vabbè tanto per cambiare Tanto per cambiare mi ammazzano Appena mi rialzo Ragazzi ormai Io non posso essere salvato Io quando vado a cappò sono morto al 100% Perché ti ha grattato la viso No dalla torretta No no è rotta è rotta Ah ma noi dobbiamo dare l'altra torretta liquid Sì ma se ammazziamo questa e la torretta la facciamo più facilmente Dici eh? Sì 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 Aspetta aspetta forse l'ho cacciato qui Sì 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 vabbè Premo A stavolta Ok giusto Ok Cerca di farlo standere di nuovo Eh merda mi ci vuole il cecchino cazzo non ce l'ho No non farlo andare via Ok? Posa il braccio qua bastardo Oddio Quindi cose c'è lessi luminose non le vedi vabbè Non le vedo basta Ma è morto ora? No almeno quattro forse Quattro? Niente ho filo di cocchio Vado io vado io Ma io lo ammazzo tutto io questo dai Ma come di un uomo te l'ho buttato giù due volte No la seconda volta l'ho buttato giù io Io o io cazzo No no Qui c'erano munizioni prima niente Non me le dà più buona E' paint questo Cosa hai dito? Questo è Cosa hai dito? E' zinato con paint Niente Io vedo paint ti giuro Niente Io sto rompendo il tasto cazzo Sarà morto E' la quarta No è morto No siamo a 5 Lo dobbiamo fare Non muore Eh si sta rialzando Non si sta rialzando Non è possibile No è morto È morto è morto È morto Troppo munizioni? No troppo punti E cazzo il liquido faceva male anche Non sta avvicinare Cure? Sì Al pelo me l'hai detto cazzo Eh io un po' di vita l'ho persa Però la sto recuperando No vabbè quando vuole Ok se adesso siamo abbastanza Bravi Di arrivare Nyeee Nyeee Se siamo abbastanza bravi Di arrivare al prossimo checkpoint Questo qui rimane morto Non rompe mai più i coglioni Ma dobbiamo riuscirci Allora Il riassunto è questo Io non ho munizioni Madò Sti cazzo di munizioni Che continui a sprecare Dai Ma sii Non è possibile Ogni volta rimani senza Cazzo Ma ci metti il fraglio Non lo sanno su munizioni o no A posto Vai Go No? No ok Cazzo Sta andando a pugni Sta andando a pugni Sì sì Sta andando a pugni Cazzo Ok munizioni Troppo Eh qui stanno arrivando A B Z Ho 10 colpi e basta Quindi fatevi ripostare Ma come sta già piazzando le cariche Ma non sono lì No Gerry vai tenete lì Ma tenete lì No 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 Ce la sto facendo No Gerry arrivano in tanti Ma dove arrivano in tanti? Va bene va bene Te ne accorgerai Troppo tardi Ok ciao Gerry Lasciala lì Cazzo è utile quel perno Cosa ho appena visto Ma se la sta facendo qui? Sì non l'attaccano Ok È uno di loro Ma c'è qualcosa sotto per caso? Sì 3 Ah Ok Arrivano dall'alto Mi li sto ammazzando Appena scendono Camperato col coltello Vai vai Ok Stiamo andando molto bene Checkpoint Fusso Noo ecco il secondo Sì la cazzin però Che c'è? Niente Va bene No liquid Ah lei mi ha salvato lei Sì ma muoio appena mi alzo tanto Lo sai benissimo Ok no 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 Cambierò la storia Aspetta qui sotto c'erano herbe se non sbaglio Andiamo piano qui dovrebbero esserci herbe Per ora qui no Non sono qui dentro Oddio che è? È Finn è Finn Ok bravo Finn Secondo me sarà immortale Fine Sì è ormai È navigato cazzo Sì ormai è un veterano Non morirà più Prenderà il posto di Chris Ma come è anche uno di Leon cazzo Il prossimo residente vuole è con lui cazzo No è il protagonista Finn cazzo Herbe qui Oh combina cazzo Oddio Oh ok Facciamo così usiamo un E3 a testa Oh cazzo Cazzo Bobbia cosa ho appena visto Bobbia non guardare Ok Ora la uso io Aspetta che si carica Vai Aspetta che sta caricando Ok Ma per me mi sono già fermato qui Sono quasi full up A me manca un attack No no Conserviamo Le conserviamo Ok Attento guarda sopra se vedi i tombini Vuol dire che lui ci passa Qui c'è uno di loro Non tombini Ok Erba rossa Niente C'è il tombino sopra la testa Non c'è niente Io? Sì Ecco adesso ci sei Sei esattamente sopra Non lo sa lui Non lo sa Ok Sembra averlo ignorato Ma Cosa c'è Jerry? Cosa c'è? C'è uno soldato dei nostri Che è Finn Che sta guardando uno zombie Ok lo zombie ora se ne ha conto No ha visto me Lo zombie Ha visto me Niente Niente Abbiamo preso lo stesso Yeeeh Disorganizzato Crack Cattivissimo Mamma mia Ok mi stanno dando colpi Ma chi cazzo sta sparando quello Basta Vai via Madonna Si sale qui? No Uno zombie Cazzo Di colpi di Finn sono andati tutti su di te ho visto Tutti 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 E uno si o uno no Tutti Tutti Niente Questo che va beh Vabbè Ovviamente la perdo io L'attacco Che cazzo sta sparando? No se già... No Jack Jack Jake Jake Jack Ok check No il checkpoint intendevo Niente Ma vuole me? Non vuole nessuno Ah ok Beh niente Mi hanno sparato subito No no Che sta facendo? Prende il camion E che ci deve fare? Lo lancia qui L'ha lanciato lì Niente 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 Mi ricorda che parlo cazzo Prende il camion Ho preso il camion L'ha lanciato? Sì? No 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 che avevo io prima Ho preso il camion Oh merda Sfonda qui Chi ha preso? Ha preso Sherry Ha preso Sherry La modda Ha preso la modda Ha preso la modda Ha preso la modda Ah e ovviamente I colpi del cecchini Li prendo sempre io No 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 che io non ha merda qua Qua sopra può non ha merda Bisogna uccidere i cecchini Jerry Non è semplice Ma ha rotto già la torretta? Ha rotto già la torretta Sto pezzo di merda Mamma mia Chi l'ha fatto? Loro Mi sa Niente Ma vabbè Sto parlando i cecchini Ok Gli tiro fuori il codino Sherry Sì Gli tiro fuori tutto Ora devo rifare il giro lungo però eh Merda No 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 Vado io Ma che difficile Ce l'hai fatta Jerry? Sì Ok Ci sono quasi Ok No aspetta Non è lo stesso posto questo Ok Chiudevi Perché non so dove andare Ma perché c'è Jerry qui? Non è lì sopra prima Eh ma l'ho buttato giù su Lo sono andato sopra il gigante No questa è una shortcut Dobbiamo comunque tornare giù Non sapevo dove andare cazzo È ricompuso È ricompuso Oddio che urlo era? Ok l'hai già fatto una volta Quindi ne mancano tre No è qui il gigante Non è andato da loro Ok Che cazzo mi è arrivato Cerca di stare in copertura Vai 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 Pieno di cecchini Pieno Jerry Pieno No no sono sulle scale Sono sulle scale Sì ma è pieno Jackie 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 mi sparano Jackie 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 va bene mi guardava mi ha guardato morire fammi andare a aprire la shortcut ma poi mi tocca fare il giro della madonna ah ma usa la spada no c'è il palo pulminante no no c'è la spada io vedo va bene va bene e poi è tutto fosforescente va bene va bene cosa ho fatto? cosa hai creato? cosa ho creato? cosa hai creato? è rottissimo cosa fa jake qui con me invece è andato a difendere quell'altra si ma io sono solo che sto combattendo contro questi qui sopra guarda guarda è incredibile ho visto ho visto cazzo sei stato molto bravo ti fotta c'è chi jake è per quello che ti tratta male chi è morto? eh a sto giro è toccato a me pensavo l'avesse già lanciato cosa ha fatto per tutto il tempo scusa non avevo ancora lanciato il camion no perchè se stai sulla sinistra non te lo lancio sulla destra se stai qui nell'angolino dove sono io non lo lancio che succede? che cazzo? race è andato tu jerry si si vado che la devi è pronto saltare ti vado ad aprire la shortcut io allora vai 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 ma che c'è un tasto diverso adesso eh non è A vai 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 sulla porta quella di prima quella dove ci siamo visti si c'è il gigante però eh proprio dove siamo lì tranquillo tranquillo e sto aprendo aspetta oddio che ho visto liquidi sei rientrato sei anche sherry sei anche sherry è tutto luminoso quando passa ma se vai lei le sta rompendo le la grafica tra poco ti crasha cazzo tra poco crasha tutto vedo dei tratti di paint nell'aria cazzo niente ok vado io jerry no vado io ma i cecchini devi ucciderli cazzo li ucciderò ma eh i cecchini jerry ho capito sono tanti spara jerry spara jerry vedo celeste niente eh niente jerry non li hai uccisi cazzo ma tu hai idea di quanti sono c'ho un mitra io per ammazzarli eh ho capito oh cazzo beh questo magari non lo faccio salire lì ma io dove sto andando dov'è la porta che trovi sempre tu vai jerry vai sono sotto di lui eh ok quanto siamo a tre? due ah no uno che cazzo ah no due 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 no la prima non conta perchè la prima tiri fuori il codino niente il codino di merda proprio quello cazzo jacky di merda non l'ha poggiato non l'ho stordito ma non l'ha poggiato chi ha poggiato cosa? lui non ha poggiato il braccio qui via 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 di qui ah ma ho preso me? ma chi mi ha preso me? ma lì ero con te sei andato via ma quello dietro di noi amico o nemico? nemico nemico eh perchè sta facendo il cazzone ahahahahah sta tirando il camion vero? no cosa sta facendo? mi sposta si mi sposta a facciare male che è successo? chi mi ha preso? mi sta rotolando? il cecchino il cecchino ok perchè è molto vicino eh ma non fa un cazzo puttana quel cecchino uccidi il cecchino jerry ti prego dov'è 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 dov'è? ma è lì davanti cazzo ma questo non è un cecchino ma lì quello lì sopra la scala la dava di pronta a noi e l'ho ucciso io ormai non ho munizioni cazzo non riesco col pil codino non riesco col pil codino spara te al codino ragazzi io mi leverei mamma mia oh zombo ho preso vado vado strappo 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 cazzo ma scusa se mi metto la torretta non è meglio? si? la torretta c'è minchia ora l'ho visto eh ma sei sui cecchini e li butto giù con la torretta è un buon piano è un buon piano minchia niente ho cercato di buttarlo giù subito ma non ho fatto venire su di me no 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 dove lo stai portando? no no ho sbagliato oh 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 che culo no non riesco a trovare la porta ma non riesco mai a trovarla io quella cazzo di porta eh vabbè ciaone eh sherry ok e guarda dove si è appoggiato vabbè dai intanto mi stanno già sparando devo ancora alzarmi ah lì si è appoggiato oddio forse c'è no non c'è arrivo se veniva in qua magari sto arrivando sto arrivando niente stai andando via stai andando via no no io sono qui non ho motivo di andare via non è lui non aiuto lo cazzo vieni qua dimmi che cade in qua dimmi che cade in qua oh finisci lo cazzo è l'ultimo? dovrebbe essere l'ultimo lo scopriremo vabbè se non lo finisci tu lo finisco io adesso cazzo vengo puntato quella torretta mamma mia sfonda lo cazzo in incertezza spara ma forse è morto non è morto non è morto non è morto vatto lo ammazzo io cazzo lo ammazzo io questo figlio di puttana figlio di puttana figlio di puttana no devi morire diventa brudino ti prego diventa brudino si 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 attento il brudino che fa male no no sono lontano cazzo ma c'è ancora zombie ma c'è ancora zombie niente guarda dalla recensione mi sparo mamma mia che fatica questo capitolo cazzo è jay che ci passa non gliene frega ma jay mi ha boicottato cazzo mamma mia usare una pasticchina jerry per favore ok mi hanno menato tantissimo jerry non puoi capire ma dove dobbiamo andare? dobbiamo fare che? dobbiamo fare esplodere l'ultima torre che culo che no vabbè basta triggerarla andare via fa tutto da solo fin poi è finito è incredibile bella bella cosa questa campagna? il culo di lei no 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 vai fin su rendici orgoglioso fin non stai andando e ha paura c'è gente cazzo c'è chino non ho munizioni io sto facendo pinta di sparare ah ok e allora non puntare mi dai fiducia così ma prima c'è andato perchè adesso non ci va ma mica c'è 28 persone addosso ma prima c'erano lo stesso è andato comunque niente continuano a colpirmi ah ok non sei morto no 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 grazie grazie no jack non te lo adotte dovevo morire cazzo si trasformati o muori una delle due a me non hai smettito di sparare comunque l'arma di merda non è vero e fin ce l'ha dato avanti ma non spara quello stronzo niente ma lui non ha la testa come fa a sparare gliel'ho rotta a metà non puoi vedere nulla adesso non hai scuse fin davvero fin vai giù puttana mamma mia lascialo fare andiamo via andiamo ali a guai noi cazzo ma come? andiamo ali a guai cazzo ma vuole una mano ci farà molto adesso ma si forta ti hai detto tempo? si 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 aspettaci fino arriviamo yeah ha iniziato il timer? non ha iniziato il timer ha visto che ho messo ma mamma mia non ha iniziato il timer c'è qualcosa che non va nooo mi sa che l'abbiamo tricherato male cazzo aspetta vado a vedere ma non è che dobbiamo essere lì con lui ma c'è uno zombie al culo ok no hai iniziato ma non gli può fare nulla noo gerry noo gerry non morire o di quanto c'è lì qui tu non ne idea puttana gerry scendi nel buco che c'è lì trova il buco e scendi c'è un buco ho visto ho visto ok ho finito tutto ho finito tutto 0 0 tutto tutto quickscore invece oh shit oh merda cos'era quello? stanno scendendo da te gerry stanno scendendo da te a dietro? dove sto cadendo io? sì da dove sei caduto tu arrivo gerry arrivo apri la shortcut che ti vengo ad aiutare è già aperta ok ho finito le munizioni resisti? resisti? ma ti hanno passi ma ti hanno super assoluti da me ma che cazzo? no 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 sono qui cazzo ma no c'è uno qui gerry questo è uno di quelli che ho visto scendere cosa fa qua? ma dai sherry mi hai fatto paurissima cazzo dove sei gerry? non lo so è un labirinto questo posto uuuuuh vaffanculo uuuuuh ok ok no 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 gerry gerry non ho più stamina ma è una merda qui cazzo non c'è niente ma quello è il posto da cui siamo venuti gerry è ovvio che non c'è niente no un po' di cazzo lo trovo aspetta munizioni ok ma fine non sta continuando gerry c'è qualcuno che lo sta disturbando e ho capito ma hai detto fa da solo eh ma l'altra volta l'aveva fatto vado a vedere eh però devi ricaricare tutto aspetta ok ha ricominciato eh buonanotte cazzo è a metà cuorginStep o hanno succeso la bere stavo bevendo cazzo vai via da lì lasciali scendere cazzo niente non bevo allora aspetta hahaha ah è stato a sherry , è stata a sherry ma l'ha pure ucciso ma gg mamm mayonnaise buono buono alla fine è un android considera è alisa ha messo alisa no 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 non ha messo alisa ti giuro lei non andrete ma non è alisa ok facciamo cecchini bravo Fim attento Jerry attento no qua non mi può colpire dai bravo bravo Jackie sei proprio forte cazzo l'hai proprio ucciso allora tu ho fatto finta di dargli un pugno e poi è andato via ma non danno nulla quelli eh ma punti ho trovato 10 proiettili facciamo questo che sta sparando si ma lascialo lì è finita tanto ha perso ha perso no 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 ha perso basta Jerry ha perso non mi sembrava uno che aveva perso che fatica niente niente ahahah ma poi il capitolo non è ancora finito ma che ci penso è vero niente niente c'è la parte a cui gioiavo quelli mutati brutti adesso e questi invece erano mutati belli questi sono mutati ibridi quanti uomini abbiamo perduto i mercenari come lui non è il nostro problema non possiamo perdere l'attività di BSA cioè non aveva un po' non aveva senso quel sottotitolo secondo me è una guerra di bioterrorismo io vedo cosa siamo qui bello Finn è bellissimo Finn non ti hanno ancora ammazzato incredibile bravo Finn ancora è protagonista no fanno resident evil 8 con lui basta in VR tu sei lui cazzo ok non è facile non è facile ci sono quelli che mutano quelli tutti curazzati tipo gargoyle tipo i golem di darksoul ci sono vabbè vi faccio un backstab dai non funziona e io ho solo 10 colpi io ho 25 del mitra e 5 del cecchino no stai scherzando no non puoi avere più colpi di me Jerry cosa è successo ti giuro ho formato colpi cazzo nelle fogne le punti mi danno faffanculo altre punizioni guarda mamma mia che sclero adesso forse devo equipaggiare l'arma a scarica così capiscono che non ha munizioni io non dovevo farlo perchè non avevo mai munizioni qualunque arma e poi dovremmo rifarla ancora quel livello lì lo sai vero quei giganti dovremmo rifarlo con Sherry dopo vabbè ma Sherry in realtà è un androide quindi ce la faccio bene non c'entra un cazzo no 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 te lo dico che schifo guarda no no è Brodino e vabbè niente sto guardando una cosa figa mamma mia gli ho fatto il contrattacco gg anche perchè stavo per morire aspetta 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 che da punti cazzo oddio abbiamo lasciato l'altra arma lì prima è vero nooo il pompa questo è il pompa ma anche lì c'era un'arma che arma era? non mi ricordo forse era la Magnum merda io non ho pistole e niente niente questa è la campagna senza mai vabbè cominciamo da capo il gioco la campagna di loro si rifacciamo questo capitolo guarda è vero di rifarmi il punto col cara armato video ho visto provato cazzo peraltro perchè tu moriva e dovevo rifarlo ogni volta wow wuuu meno male non si schiudono niente niente Sono quelli che lanciano le spine, è vero? Uno se si chiude? Uno? Nooo, è il golem! Dove gli devo sparare? Cioè, a che punto strategico? No, gli devi sparare con il pompa e non ferire la corazza e sparargli nelle parti morbide una volta che sei rotto Vai Gerry sei tu quello con le munizioni Sei dentro in culo sei, sei dentro in culo Oh oh Puttana Mamma mia, voleva in tuo culo quello Mamma mia se lo voleva Ah, che ti apre un'altra bocca Ah, giusto, sulla schiena gli fai più male Dove c'è la parte bianca Ah, hai visto? Lo sapevo, questo è sparato qui Niente, bugiardo, Gerry, bugiardo Poi c'è un bambino sulla schiena, che cazzo c'è? È quel coso che qui devi sparare Sì, però se fa così non riesco a sparargli dietro, lo sai È Deborah, è Deborah quella sulla schiena Ce n'è un'altra Gerry Mica, dove c'è un'altra Ma puttana sto coltello è di merda che fa animazioni del cazzo E vabbè, mi ha ucciso lì quindi non vedevo, cazzo Eh, vabbè, grazie Col coltello mi sto difendendo Gerry salvami Ma stavi sono giù Va bene Gerry, va bene Ero giù con te perché cazzo gli flash bianco Sì, sì, tutto escuro Niente Ma perché fanno nelle flash bianco quando uno muore? Che fastidio Madonna, davvero Basta che ti fanno pin Ti fanno un suono tipo pin, capisci? Immobile, lui giustamente si stava sto prendo il culo, cazzo Eh, che fanno Poi guarda come piccolino diventa un bestione Niente, dobbiamo essere cattivi, certo Cattivissimi, ora Basta Cioè, ho cercato di farlo col coltello Per fare le ammunizioni, ma no Non lo farò mai più Ma siamo sicuri che sia un pompa questo coso Minchia Sparappallini Sono le armi di spob I colpi della chicco, cazzo I colpi della chicco, cazzo GG Dai, un colpo nella schiena colpo No, io non ho sparati già 5 io sulla schiena, te lo dico Però siamo in due a sparagli, eh, siamo in 5 in una stanza che stanno sparando in due Eh, non volevo dirlo dentro, ok 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 Dov'è quella? Mi dai munizioni, sì? No, abilità Questi non te li daranno mai munizioni Senti, ho un altro piano, Jerry, non ti avvicinare a lui Che c***o Ti ho detto, non ti avvicinare, ti muovi Io hai delle casse là dietro, mi vede munizioni E non l'ho nemmeno colpito A lui Mi vede da prendere munizioni, cazzo Dovo cercare di colpirlo mentre fermo Iii, treccele No, no, non è vero, non è vero Va bene L'altro è un'immagine residua Fesante, cazzo Non so se chi se lo fa dire così Ma la cecante funziona Oh, funziona Vai Io direi di usarno un'altra Minchia spamma Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Wuuu Vinto le munizioni Andai a vedere che c'ho queste casse dai Cioè, muori E lui non entra, non gliene prega niente Ma non fanno un cazzo Ma perché non ho le granate? Ogni volta me le toglie Fanculo, Chris Non muoiono Minno, ve lo finire tutte di nuovo Non basta Non muoiono quelli pugni Non gli fanno nulla Ma quelli pugni no, che... Oh Dio Non gli sparo con gli altri Non gli sparano Come devo ammazzarli Puttana E' morto? Questo si, l'altro no Non è morto Non è morto Non è morto Ehi, sono uscito a conservarne molto poche. Molto, molto poche. Ah, ma ci sono queste. Eh, quelli dicevo, io ora l'ho viste, cazzo. Niente. Adesso ne ho di più di quanto abbiamo iniziato, guarda. Io l'ho vista alla porta celeste, poi appunto mai questa. Oddio! Quattro granate sono rimasti. Boh, non abbiamo visto te. Ma ci hanno abbandonato tutti stasera, comunque, mamma mia. Mamma mia! Mamma mia! Il deserto! Guarda lì, tre persone ho! Anch'io! Sono le stesse tre! Yeeeet! Ma non è che è andato offline Twitch, tipo. Dai! Non è possibile! È da troppo tempo che ho tre persone fisse. E poi l'orario di tuo si avvicina anche a questo, cioè. E posso capire il mio, ma il tuo. Ah, ma non sei tu quello Finn? Infatti non capì! Ma perché devo morire? Ho detto che cazzo fai? Oh, bravo Finn! Ammazza anche l'altro, però. Finn ammazza anche l'altro. Vaffanculo Finn! Finn di merda, stronzo faiaccio! È bravo, bravo, è una Finn di merda. E ho capito, i suoi colpi non fanno un cazzo. Ok, uno è morto. Mi erano da ammazzare io, cazzo. No, Jerry, no. No, mi sono rotti il cazzo. Una certa persona si arrenda alla... Alla disperazione! E mi ha rubato la kill Finn. Va bene Finn, va bene. Va bene. Va bene. Ha sperato che cominciasse a colpirlo per sparargli per davvero. Va bene Finn. Wow! Un'altra, le alba rossa non ci danno da verde. Ma io ne ho tipo tre di alba rossa. Sì, ho tre alba rossa. Non le hanno? Ma come, tre alba rossa? Sì, tre alba rossa. Piers! Piers! Ok, si è sbloccato. Cinque persone, mamma mia. Finalmente, è andato via quel tre. Ho trovato Daisy! Ciao, Daisy! Ma quante, quante siringhe da drogatti? Capitano. La dà subito a me, ha capito tutto. Ciao, Mochim, è stato li danni della per bronzer hm È soltanto dietro i loro cavali qui Chi sei? Io conoziono. Ho nationally見ato. E' Amore Erin, sono Ada Wong. Sono aiutate aiarianze. C Six Nin. Mucho che ispredato di questi fraterni in un buonamantismo Ma lei non ne ho mai sentito parlare, Di rise? C quemi è possibile, quanto indietro in un mese del loro tempo? Migliormente sicuramente per aver potuto mettere le macchine? Ma non siamo indietro in un telpo? si chiama un flashback no? si ma è comunque è comunque qualche mese prima di quello che è successo non è così tanto non sapevo che non erano correlati a Ada e Chris no giustamente lui non l'aveva mai incontrata però pensavo che Leon gli avesse parlato così invece no niente non sa proprio chi è anche Claire doveva conoscere Ada che sua sorella ma il panda dov'è niente niente la tenda d'occhio si ha visto lo spacco che c'ha in mezzo guarda lì anche Claire l'occhio anche Phil è guarda io guardami ma siamo rimasti io the pin davvero eh Ada è Ada no Ada non esiste voglio stare io con Ada però c'è un'erba verde qui Gerry ma sì sì non senti correrei a prenderla cazzo guarda dove l'hanno messa guarda dove cazzo è guarda dove l'hanno messa guarda dove l'hanno messa guarda dove l'hanno messa combina con questo che poi si prende questo e si fa attacca e lo è eliminata o sbagliata no non è vero ti immagino qui c'è una cassa però hai lasciato te indietro oddio munizioni cazzo vuoi dare una mano spot anche te in gioco? vuoi fare Ada? guarda che succede? vabbè niente non pensi così tanto in munizioni io seguerei il consiglio di quell'uomo si mamma mia non me lo faccio ripetere guarda sono già salito non ci ha cambiato capito no abbiamo cambiato campagna go 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 dai apriti cazzo qui cazzo qui cazzo io volevo fare Ada dice adesso no ma questa non è Ada non è Ada che gloria e la coppia Carla che gloria niente vai è tutto tuo Gerry questi sono quelli di te preferiti che cazzo io mi sono messo in copertura subito appena è uscito non lo ricordavo io minchia figlia di puttana non possiamo avanzare ma noi eliminiamo questi hostili niente lo si vede di copertura ragazzo mamma mia niente niente non ho munizioni più cioè pompa e muori questo era bello usare contro i giocatori oh 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 io te è io ma cosa ha fatto dammi la pastiglietta niente non usa la pastiglietta vieni 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 beccato ho paura ho paura ho paura morto ho paura non li vedo va bene non morire allora basta mamma mia sii ho paura mi ricordo che veniva a colpirli in un determinato momento non mi ricordo più qual era vai fin queste sono le porte che rompi tu guarda si vedono che sono quelle ecco le tue solite bombe esplode poi da il calcio guardano niente 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 un momento di gloria di fine spezzato così cos'è un pulsante da premere no no che è che era oh merda sta arrivando qualcosa C'è uno là sopra Lo vedo, lo vedo Ah, ma è un golem, cazzo Eh, merda Oddio, niente Allora ho un piano, ed è questo Il piano era stordirlo e buttargli la granata esplosiva, Jerry, non dovevi colpirlo No, 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 Jerry, no Meno che io ho entrato un pugno, non mi l'ho entrato più forte a me, però Quello che è un pugno, questo è un pugno Cosa succede? Di nuovo i flash del futuro, basta, non è morto nessuno Eh, ma vuol dire che finirà male, lo sai È piccolino questo qui, grosso, vedi, eh Non è grande come gli altri, guarda Mi pare quanto è grande No, 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 è piccolo, è piccolo Sta passando su tutti, non si è in cura Vabbè, ma con Dio tutti ci ha preso, tutto Prima di morire l'ha fatto, eh Figlio di puttana Ti ha menato, ti ha menato di brutto prima di morire Io stronzi nobissi, eh Ma questo Mamma mia, quanto è Quanto rancore provava Mamma mia, sì Io piccolo, io piccolo, guarda Sei incazzato Ma non è che c'è la roba a sopra dove è arrivato lui? C'è la scala? Vado a dare un'occhiata perché non ho niente Sento passetti, oh cazzo Sì, c'è una cassa qua sopra E niente Non fa niente, Zerny, non fa niente Fottetemi Si stordiscono anche questi Si, oddio No, c'ho qui, c'è il live vent Cazzo, ho sbagliato, niente Non ho potuto uccidere, niente Vabbè Perché vedevo il bacco di Cristi Dico, vabbè Niente È sempre quella Niente Niente È stata buona l'idea di accecarlo però Sì, perché fai più tempo e metà che li puoi one shot Però devi essere brevissimo, cazzo No, eh, vabbè, ma è troppo veloce Dove conoscere le a memoria Basta conoscere le a memoria in realtà Sono sempre gli stessi Sì, sì, mi sono scelto i stessi tasti Ok, uno è morto Ok L'altro non è qui Ma non sta fermo sto figlio di puttana Guarda che scappa Ora sì No, non è morto Ok, ho capito come ucciderli comunque Basta fare l'attacco quello in corsa E si scordiscono uguali Dov'è? Morto Abbiamo trovato il punto debole, dai Ok, dovremmo essere alla fine Dovremmo essere Ne sento un altro Merda Merda, liquido No, no, no Vaffanculo, bastardo Mamma mia, mamma mia Cazzo, cazzo Evo Vomita Dopo troppe botte ha vomitato Niente Che problema, Gerry Oddio, oddio, non riesco a prenderti Ok Mamma mia, hai visto Iaghi? Hai visto Iaghi? Tu non hai idea di quanto mi alloriscia Sta arrivando qualcos'altro, Gerry, è da cattivo No, dov'è? Ma dove sei? Gerry, aiuto No, 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 aspetta, non ho munizioni Fammi cercare C'è uno di quelli piccolini Non vedo più dove è l'altro Niente, ti ho fatto uno schifo, volevo curarmi Aspetta, fermati, fermati Niente, niente, è finita, è finita Cura, cura, cura Aghi, Aghi Mamma mia Mamma mia Aghi 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 No, ha smesso, ha smesso Miicchia, li sta pestando questi qui No, Ada, no Io penso al dinosauro del cazzo Eh, io penso a questo qui, lo guardo un po' Morto, morto, morto GG Uff, ciao Patrick Lisca, benvenuto Arrivo, Gerry, arrivo, resisti Atteni Ma dove cazzo sono? Mi hai intrappolato, Liquido, mi hai intrappolato No, 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 va tutto bene, Gerry, va tutto bene Sei forte, Gerry, sei forte Sai come contrastarlo Mamma mia Ma tutto bene? Sono tu Ma la schiena hai lasciato integra Eh, io gli ho lasciato una bomba e basta, non nient'altro Ok Ma tutto finito È piccolino, vedi che è piccolino Sì, sì, come prima, poi ci ammazza No, ha matato te, mica me Non bullarlo, cazzo, e poi se ne fa con me, cazzo Ma Bobbio Mmm, bitch, bitch Non, 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 no, no, Gerry, spostami, spostami Non mi ha, non mi ha levato vita, però non mi ha levato vita Che serfone mi ha tirato Non mi ha levato vita, mi ha solo spinto Piccolino io, piccolino io Oh, ciao, ribellini ci bullano tantissimo stasera non credo che ne abbiamo mai prese così tante in nessun videogioco di nessun video giochi in nessun capitolo siamo mai stati così provati mamma mia che fatica ma è finito sto cazzo di capitolo ma è duro più di tutto il capitolo di Leon, di tutti i capitoli no 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 dai non esageriamo siamo solo a 2 ore e 50 di live tranquilla tanto lo stavo facendo i capitoli più e più volte moriamo di continuo ma salvate Adal ciao Phil è stato bello? no Finn che cazzo è Finn ormai sei abituato agli schiafi niente no strunza no no ma sono caramelle guarda perché sta perché ha paura che soffrano della fame lì dentro quindi gli ha buttato un po' di cibo e zucchero gli sta dando guarda si 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 guarda in realtà quelle siringhe contenevano zucchero per mantenerli in vita no Finn Finn tu sei il protagonista Finn no 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 pesante madonna se è pesante che cura o pierce comunque e lui l'ha salvato è giù niente ecco fin no ma no ma è diventato un golem giro cazzo ora sono aperte ma possiamo ancora salvarlo e si si è dentro e dentro quel coso devo solo aprirlo aspetta che cerco da pillo niente niente no perché mi picchi è il suo modo di mostrare affetto tutto bene quanta gliene ha date che è quanto bene a me no visto a me non mi fa nulla niente mi salva gerry guarda cazzo ti sto salvando portami via gerry ah forse così che ha avuto l'amnesia ah dici quel colpo che ha preso sia per il trauma che per le tante botte ma sono morto di più io alla fine gg precisione 65% madonna gg e beh c'è un cecchino cosa chi è che ti diceva e ti bullo per la precisione in the for dead e chi altri vabbè ma io spesso quella pistola smitraglio perché altrimenti mi ammazzerebbero che no se vado alla percentuale qui non usciamo vivi io te lo dico sono sudato cazzo siamo uno dei capitoli più fatti difficili bruciateli tutti cazzo ok torniamo al presente si è appena ricordato tutto si è appena ricordato tutto niente vuole vendetta minchi si è arrivato niente niente non è finito non ho scoperto se non c'è non metto se arriviamo a metà quando arriviamo a metà di questo capitolo no no aspetta aspetta grazie per l'oste conte non mi era nemmeno venuto su ponte no per me ci sono problemi di switch oggi ma già da quell'oste lì di nore anche non è arrivato ma non mi è venuto scritto in chat cosa mi viene scritto ho dovuto levare dalla schermata dalla seconda live si ha problemi oggi twitch boh boh vabbè si droga oh però non sto messo malissimo quelle munizioni nemmeno io guarda tutto zero vero? ok andiamo guarda guarda gli spara giardi guarda proprio con delicatezza guarda è una rosa cazzo bravo sta annaffiando una pianta come no? posso fare anche come fa lui? posso avere quell'arma? si in effetti sarebbe utile ma poi no poi fai poca precisione mentre ti rompi i coglioni è invisibile? si pure questo è il serpentone che hanno rubato dal primo resident evil no? e l'hanno fatto diventare invisibile vabbè niente va bene c'è marco adesso non c'è più fin c'è marco niente muore anche lui lo sai si? no no non è vero in realtà è fin si toglierà l'elmo e vedrai che c'è fin sotto oh mio dio come inalo che il master shift si toglieva il metto di un altro master shift si c'era un altro elmo sotto non sono morto l'ho vista quella scena mamma mia si fa morire tutti erano contenti ho più il giga niente no? avevano spostato nella telecamera per vederla in terza persona quella scena e niente c'era un altro casco sotto come radiculati cazzo mamma mia pensavano di fregare il gioco no vieni qui liquid no devi venire qui questa è cattiva arrivo questa è cattiva arrivo arrivo cos'è questo? pesante 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 questa non ce la meritiamo dopo che il capivolo no aspetta Gerry guarda ok ok l'ha scavalcata pensando se facesse qualcosa aspetta lo scivolo mi pare lo facesse o no? notte conte si lo scivolo lo fa Gerry guarda che cazzo dici? no si ha il primo spazio aspetta niente non me lo fa fare niente aspetta non so fare gli scivolo perchè? no Gerry Gerry il panda Gerry guarda il panda Gerry perché l'ha fatta lì contrario? Gerry guarda il panda aspetta che lo faccio aspetta che lo faccio cosa sto facendo? niente aspetta lo mi farei chi come sei fatto? come hai fatto? niente pesante guarda niente no? perchè mi scavalcato? non so a volte esce a volte no ok niente l'ho rifatto vabbè bubullo fammi sapere qui sopra perchè mi è sceso per bene mi è sceso come un handicappato scusami che ne so è justin bieber il tuo personaggio guarda guarda fammi vedere fammi vedere guarda guarda come scende ma te l'hai visto come scendeva? no no stavo facendo il panda oh Dani ma non mi fa fare il panda devi stare fermo mettiti qui e stai fermo e poi premia cioè apri il tasto non ti esce il tasto? no mi odi anche qui il panda ma se va dall'altra parte è dall'altra parte è dall'altra parte più in mezzo più in mezzo ecco dai lì prova non sei degno del panda no no ora lo devi fare cazzo no no non sei degno del panda guarda è cosissima possiamo andare avanti nel gioco si ma poi perchè fai questa posa qui? non lo so è molto fiero andiamo via a posto così dai andiamo via non ci sono casse qui? no 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 vabbè per i soldati che ci guardavano va bene quando volete raga ma questo è scema questo qui è un veterano dell'ABSA siamo sicuri? le ho fatto pensere le ho fatto pensere ho visto ho visto ho visto oddio ma era qui che c'era l'elicottero da distruggere siiii niente nooo i flash brutti no io come cazzo lo butto giù? ma hai zero di tutto? siiii provo a prenderlo a pugni guarda ok ok proprio zero di tutto lui ok ok ho fatto ho fatto ho fatto cioè io li prendevo a pugni mostri ma per conservare le munizioni e lui no li prendeva a pugni perchè non ne aveva proprio più niente però queste cose non le calcola non è negli stati finali no no? e pure quelle eh cazzo oh cazzo qui c'è nerva verde c'è nerva verde c'è nerva verde ah beh prenderò ma sinceramente c'è nerva verde c'è nerva verde adesso ti ho sentito agonizzare oh dio siiii per forza si fuma perchè per vedere queste cose eh eh deve essere fumato cazzo arrivo un altro no 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 ciao full moon check point niente aiuto un indietro eh no 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 ti ho detto che non ho nulla no 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 così si ammazzano che la fai? non mi hai? ti rendi conto che sfiga che c'è io eh io le munizioni non le uso capisci vabbè sono state un coltello sono state un coltello per solitario tagger da vero non ho 10 perchè molestate dei poveri panda vengono molestano noi mamma mia ci molestano loro mamma mia ci stuprano cazzo non hai idea di quanti anni hanno violato i panda in realtà erano con quegli occhioni lì ma con quegli occhioni in realtà oddio oddio che è successo niente torna giù potevo anche tornare a continuare a salire io eh ci pensava Gerry ma con 10 munizioni si si vabbè ma perché non mi fa le animazioni che deve fare quando c'è il coltello è questo che mi dà fastidio è un'arma tabù il coltello tutta la vita mi ha tolto cristo ok avevo 5 tacche e una ne ho una vai ci siamo go va benissimo vabbè non cambia un cazzo ho capito cute ricarico chiudi quella cazzo di porta chiudi quella cazzo di porta chiudi quella cazzo di porta non dico altri tico a il gioco chiudi la porta quello va dentro quello entrato che stai buttandooo pensavo fossi tu infatti non capivo Siamo molto provati stasera comunque Aspetta, aspetta Fermo, fermo Eeeh Ok Mamma mia, sono sceso di sotto Ce n'è un altro Mi ha tolto vita Mi ha tolto vita Mi viene giù lui, non me ne frega Niente, è risalito, Gerry, niente Ma cosa, no, Gerry, fermami Tirami giù Prendimi per i piedi Prendimi per i piedi Sì, qui Niente, è morto Eeeeh, niente Non mi aspettavo così tanto Non mi aspettavo così tanto Non mi si rara, non mi pare Ma non è vero Mi liberato? Sì C'è di sì, c'è di sì Cazzo, se sono sceso Mamma mia, cosa Con quello che non sceglie, non salgo più Questi qua scendono Ma non è vero, ma non ha detto qualcosa Quando moriva, ha avuto scritto a me ora Cosa Diciva di fermere V Perché qualche giorno era morto No, 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 no Eh, sono nelle visioni del futuro, certo. Stai sicuro, sì? Sì, 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 sì. Ok. Come cazzo sono ancora vivo? Tirami la gatto. Prendimi il piede. Se abbiamo fatto questo qui, comunque Neo dovrebbe riuscire alla prima. No, no, non ne sono così sicuro. Sono morto, sono morto. No, 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 mi ha fatto la capriola della parte sbagliata. Ok, sono salvo. Cosa succede, no? Pensavo di essere salvo, pensavo. Grazie per la caramellina. Sono come quelle che hai dato prima dagli altri. Ah, zio! No, perché quello è così? Cosa gli hai fatto? Non ho munizioni, non sto più sparando da un po' liquid. Ah, ecco perché non facevi un cazzo. Infatti non capisco. Ok, ma per quanto c'ho munizioni, cazzo? Prendile. Scavalca. Niente, niente, cane. Permesso, munizioni. Stanno diventando tutti... Eh, vabbè. Vabbè. Ho sbagliato granata. Vabbè, ha funzionato comunque. Che è successo? Sono esplosi? Eh sì, ma volevo usare quella cecante. Basta. No, non vuole morire questo. Ok. Ma in due ci sono andati, cazzo. Comunque senza munizioni è molto più difficile, cioè è veramente... Sono provatissimo. Guarda, Gerry. Oddio, io prendo il gioco. Guarda, Gerry, è vero. L'ho preso, ho preso subito, l'ho preso, cazzo. L'ho preso, cazzo. L'ho preso, cazzo. Lo vedo davvero. Lo sai che sarà l'ultimo della loro campagna? L'ultimo del gioco. Come stai messo quella vita? Bene, tu, vero. Che no, che no. Eh, io vaffanculo, ho un'attacca. Niente, niente. Oddio. Ho di conservarlo comunque, dai. Ma un checkpoint, c'è, sì? Qualcosa? Mi fa il male? Sì, sì, c'è un video, ci sarà anche ciò. Ok, ok. Oh, bobbio. Eccolo, guarda, il ricordo. Niente, c'è le mod. Niente. Me li incontrano molto spesso, eh, mamma mia. Manca a farlo apposta, cazzo. Perché c'era il mistero che guidava l'elicottero? Io conosco quel gioco, fa sfondo. Eh, sì. Era il mistero quello che guidava l'elicottero. Cosa dice? Poi hai messo anche lui come mod. No, no, no. Le mod di dire il mistero, davvero, ok. Ce l'ho messo anche lui. 619. I zombie ultimi mangiamolo. Ti facciamo la 619, cazzo. Hai due casse qui. Munizioni, cazzo. Le rotte io, le rotte io. Come le rotte te? No, le rotte io. Allora ce l'erano 4. Dove sono le altre? Aspetta, ti lo presse io allora. Ma erano sempre qui. Ma what? Ma dove dobbiamo andare? No, guardo io, se sei lì, il navigatore. Aspetta, che cazzo ho aperto? Ho sbagliato tasto. Ho preso una medicina, niente. Eh, aiuta, Shere e Jake. Dove sono? Eh, ma sti cazzi, scusa. No, 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 dai. Ho capito, i suoi tecchini. Veramente, no, spoffo. Io non te lo dico ora. Lascia stare. Niente, niente. Le lascia andare. Ah, yeah, ma perché mi arrivano solo per me i proiettili? No, no, mi spio anche me colpisco. Ma l'elicottero? No, l'elicottero, bisogna aver lanciato granate per l'elicottero, ricordo. Bravo, spoffo. Hai messo quella con i capelli bianchi di Nier, davvero? Sì, sì, niente. Niente, niente. Mi sta sfondando l'elicottero a me? No, io non lo sto più guardando. C'ho il pompa, ma non so quanto funziona da qua. Continuo a pensare al Nio, no, 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 cazzo. Il Nio per le ragazze non ci... Oddio, c'è la gnocca anche sul Nio, eh. Sì? Non, io non è misterio, cazzo. C'è un uomo cavalletta che sta... Oh, questo che si fa qui? Non è misterio. Niente. Mamma mia. Ok. Merda, gli uomini cavalletta. E quelli verranno qua, spero. Oh, cazzo! Sì, ok, qua. Ma sull'età ricordo che erano debolissimi, era tutta scena. Ok. Madonna, non è tutto bene. Non troppo, no, eh. Non troppo, no, eh. Va bene. Niente, ho scritto l'elicottero, la rotticoglio. Spara, spara! Ha sparita così la testa, va bene. Va bene. E continuava a muoversi, eh. Hai sparato te? Sì. Ah, ok, ok. Niente, ho un accecante bassa, io la lancio. No, 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 no. Ragazzi, vedemi che munizioni. Nulla. Nulla, eh. Niente. No. Niente. Niente, ho perso la... Ho perso l'attacca. Cazzo! Puta! Ok, uno. Vai! Arrivo, cazzo! Merda. Ora non credo più. Ok. No, un altro è arrivato! Via, via, da lì, via, da lì. Sì, sono scarse le cavallette. Tra tutte le mutazioni, è veramente inutile la cavalletta. Ha rotti cui, dov'è? Non è possibile che non sia andato via questo. Una donna che fastidio... Non spara i loro due da sotto, eh, no? No! Ma è un nemico, quello, no? Che fastidio! C'è un nostro alleato dall'altra parte, ma... Ma non è che le diranno stai quelli sotto da lei? Sì, bisogna... Eh, cosa stavi sparando? Tu non stavi facendo... Anche a loro, ma non stanno morendo più, però. Ok, sì, bisogna ucciderli tutti. Eh, eh, con che cosa, però? Può dire una bomba a mano, c'ho? Ho sentito Sherry urlare, io, eh. Sono arrivati altri amici, Sherry. Dove, dove? Qui, da noi? Sì. Ok. Dai miei munizioni, dai miei munizioni per favore! Che cazzo era, oh! Dove sei? Ma teso ho calcio! Niente! Hanno preso anche me. O ti città di due, ce ne due! No, l'elicottero ti spara! Babbami! Scappa, Sherry! Dovrei averti curato! Mamma mia, se non ti curavo, dovresti essere morto, cazzo! Non ho più medicine, io! Niente! Niente! Ok, mi sta segnando i nemici, c'è un buon punto, quindi. Liquid, se ti distorri indietro, non c'è la bomba! Liquid, c'è dietro, liquidi! Buttala! Buttetevi! Buttetevi! Ok. Niente, mi continuano a sparare, basta! Da, perché ci sono i tizi attaccati all'elicottero, sono loro che sparano a noi! Quindi sono sparato io! A loro anche sono sparato! Eh no, potevi dirmi che c'erano! Ma non fuori! Ma c'è una pesa all'elicottero che ho fatto all'inizio! No, me ne ero accorto! Quindi è... Ma io ho sparato un casino, io ho sparato, non sta morendo, cazzo! Ti penso io, ti penso io! E poi c'è roba arancione, fosforo e scherzo! Eh, sembra che nemmeno entrino i colpi, è strano! Aiaiaia, chi c'è chi c'è? Oh! 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 Aiaiaia! C'è un altro dietro, cazzo! Va bene, no, ok! Nell'ultimo lo lasciamo lì, va bene! È il pilota l'ultimo! Il chopper è pulito! Ok! That would be too easy! Come on, continui a andare! Il capitolo, dovrei escoltarli questi due qui qui? Non ci saranno mai avanti a loro loro! No, stiamo andando fuori! Allora, andiamo! Mmm, scomberone! Quale porta? Che dico? Ah, quella, ok! Gomboni, gomboni! No! 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 Ma che cazzo dico? Non aveva messo nulla! Eh, non aveva messo nulla da me! Non aveva messo nulla il muro alla porta! Lo vedevi? No, cazzo non l'ho notato, no! Non sono stato attento, non sono stato attento! Niente! Non mi sembrava che aveva messo nulla a me! Ma come è la nuova tecnologia? Non so! La PSA! Le granate invisibili! Minchia! o pericolosissime se te ne dimentichi dove le messe? quante casse due abilità pieni di punti abilità abilità o munizioni, uno solo munizioni si, bene, 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 le abilità, cazzo grazie capcom grazie di monster hunter capcom pisante puce un'arma, lancia granate per distruggere l'elicottero dov'è? eh dopo sta porta ah ok, ma mi pensavo di essere salvato era sopra no no, giardino il c4 di snake eh si no no, c5 di snake usa un c4 normale ma cosa c'è a terra? c'è uno zombie no, c'era un... uno spray no no, non è vero giardino ti giuro, qui a terra, qui, dove c'è lui? non l'avevi te? ah, l'ho preso senza accorgermene ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, non lo frego oh oh dai vai così cazzo niente, ricominciamo questo elicottero di merda va bene va bene veramente manca soltanto lo scudo cosa succede? ma cos'è che puzzo ogni tanto che no no l'ho preso oddio 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 l'ho lanciato hai visto come si fa ma dobbiamo salire noi si dobbiamo sparare l'elicottero eh ma dall'alto mi sa dobbiamo salire qua niente è andato sotto no è qua qua da me gg no gg un cazzo dobbiamo sparare e niente niente facciamo che torno giù io no no c'è li sono sceso no 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 non ce l'ha con me mi hai messo da solo ok aia sono giù anch'io adesso no no non è vero non mi ha illuso la scena che cos'è cosa succede potrebbe essere morto tu dici mancava meno di un centimetro per infizia la barra niente quanti colpivaci vuoi che buttarlo giù questo stronzo eh io l'ho sparato un intero caricatore pure io mio dio un caricatore che ho sparato io e più altri due dell'altro entrambi avevano sparato un caricatore confermo partout non è che c'è il popo che conferma cazzo no l'elicottero si fonde aspettiamo le cavallette eccole eccole col macete guarda che animale cavalletta gigante col macete cazzo soldati nemmeno ci provano a sparagli guarda se ne vanno proprio via vanno via vanno dell'elicottero se nemmeno vanno dell'elicottero non ho visto oh dio eh una cavalletta se non salva bravissimo cazzo ma dai cosa c'è ma cosa sta succedendo ma io ho te io sono morto io ho trovato un'altra cosa cosa è un'altra cosa ho avutato qualcosa ho avuto un raggio non lo so non ero dentro mamma mia io ho fatto il contrattacco cazzo ora sono qui dentro vediamo ahiaiaia spara come se ne sa vita che se non uso lo spray no? eh metà ok eh eh ho spettato che mi dicevi che eri almeno sotto la metà cazzo ho detto va bene luce mamma mia ah ecco cosa ti aveva preso prima esplosione cazzo no sta tornando un'altra cavalletta lì qui ahhh ok un caricatore gliel'ho buttato vai io penso la cavalletta no no io sto scappando no niente niente non ti metti in copertura cazzo ma che cazzo è successo? niente non lo so l'elicottero va bene va bene no 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 non fallitare dentro e se non si stordisse per sto elicottero di merda gli darai i pugni ma vaffanculo cazzo cosa sta facendo questo indietreggia che vaffanculo dopo un po' rompi i coglioni ok oh ma sta andando madonna dov'è ma chi sta sparando ah jay che scelzi ma almeno l'uccidesse cazzo minchia niente nissato ma uno l'ho preso no no muore si io le ho finite no no dovrei sferazzarmi dovrei sferazzarmi io le ho finite no io ne ho nove però non mi sa sparare niente ci sono le cavallette ne te puoi spararli solo tu adesso già lì le ho finite basta che mi convoglio ti penso io le cavallette mi ho preso la gamba cosa ho visto mamma mia stavo per essere accettato mamma mia mezzo hp avevo mezzo hp no no io sto bene grazie chubi così fuori luogo cazzo e' un po' in anticipo c'è un po' in anticipo c'è un po' in anticipo ma poi è fatta bene cazzo beh, fa parte di un gioco che c'ha una grafica migliore di questa sì ma mica i modelli sono quelli non si so non so forse l'hanno giusto abbassata un po' poi oddio che c'ha la grafica meglio di questo parliamone per alcune cose gli sfondi cioè l'ambiente texture del terreno e sfondi sono una merda di near? davvero? sono in bassa risoluzione alcuni hanno detto che sembrano un playstation 2 in effetti alcune cose pesante eh sì i modelli dei personaggi no ma le texture dei pavimenti così a volte fanno veramente riprezzo infatti c'è la mod di mi ricordo come si chiama che li ha migliorati a pezzi che c'è? che c'è? come lo sfumano di così eh c'era una scena qui ma tu non te ne sei sbattuto i coglioni scusa scusa no 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 ma che successo? niente c'era uno morto gli abbiamo porto porto i nostri omaggi è stato piacere come ha detto come si ha detto Pierce ti saluta ma oh dio dio non so perché non è qui no devo dare venti colpi il colpo di pompa devo sparare adesso voglio sapere come stai messo con le munizioni 4 colpi di pompa 9 11 di lancia granate 0 ok e resto tutto a 0 39 pistole a 79 mitra niente niente viva le mod come in minecraft dice spop non gli rispondo nemmeno ma qualche volta lo convinco spop che si fanno tutte e tre minecraft insieme sei contento? l'ho di più di me inutile che ci provi no ma dobbiamo far questo siamo già a quel punto qui c'era anche un problema di connessione ricordo tu mio dio è vero con dette quante volte siamo crashati con quel cazzo di errore cristo speriamo che non ci sia ancora abbiamo dovuto fare da soli io mi considero quella parte siamo dovuti andare oltre da soli eh anche iotobi e il gatto iotobi e il gatto non hanno più continuato Resident Evil 7 per colpa di quel bug così tanto? basta la procedura da soli cazzo liquid zoom minecraft ma non è proprio qua è proprio più avanti mi pare perché c'era tipo una stanza mi ricordo di crashare pioveranno peni dal cielo spopo il giorno che giocherò minecraft io sto in casa mamma mia e chiudo le finestre mamma mia buono è vivo? no no e lui ricorre niente eh bene è un suo soldato cazzo si ma ormai è morto no non dire così quando si afferrano la gamba sei morto niente esatto belle immagini peni dal cielo sono anche miei uomini mi chiede di non dire così sono anche miei uomini ma tu sei sei il membro speciale wow mi sta dando un domino speciale cazzo rosso non osare parlarmi così liquid solo perché hai fatto successo a 13 anni con la chitarda posso? no posso è Justin Bieber è lui stop mi da Justin Bieber ma dai è uguale ti vedo quella vita rossa c'è lì che è successo ma un po' non so come mai così può la vita ma c'ho erbe ma non cazzo c'ho non ho erbe ho ancora lo spray quindi in caso quando vado capo anch'io lo uso ma c'è da far servente ma non ti danno più munizioni se non sbaglio ho sbagliato io mi so si è che sto secondo il navigatore quindi si sto lato su ah hai mica munizioni oh mo mo hai mica munizioni ah un povero soldato senza senti fa clic clic dai ciao Jerry ho amicizia con Marco appendilo e gioca a minecraft ma Marco is the new fin perché devono tirare fuori l'arma ma c'è c'è quello che se ne sbattico io nel lato dritto e basta ma dov'è essere un po' scherco questo? no no non è un jump no dico voleva essere non ho capito perché non ho capito no 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 tranquillo non ho capito il motivo no Jerry no no basta niente è morto dai Jerry si spaventa col serpente no no lo sapevo che era qui ehm minchia come il cane nel cimitero meno male non facciamo un horror insieme un horror come lo faresti Jerry non esista un horror come purtroppo no ma un giorno lo potrebbero crearlo no no spero che quel giorno non uscita più ah به ansen a che servono i cavalli degli scacchi alciabilità sono i punti esperienza per salire le skill che non ci sono in questa modalità a questo livello di difficoltà si Plinida a noi non ci servono esattamente a un caso I need your help! Ce la fai? Ha le braccia muscolose, lui. Mi servono i tuoi muscoletti da Justin. Justin, tutti vieni lì tutti il giorno, cazzo. Ma quanti ne sta prendendo così? Ma lui è morto? Quel serpente gli sta ammazzando l'intera squadra, cazzo. Niente, già ripeto. Vi l'ha sentito. Geri Pippo mezzanotte e mezzo pesante, cazzo. Ma no, certamente che fa Geri Pippo per uccidere i nemici, no? Lo sento, Geri. Ok, ce l'hai te, ok. Niente. Ho un casino di colpi del mitra, vuoi sapere quanti ne ho, Geri? No, no, no! Sicuro? No! 139! Hai una pistola vera! Zero, zero, grazie. Ah no, le ho presi 10, le ho presi 10. Del mitra? Sì. Molto utile, il mitra ha 10 secondi. Venti, venti. Ok, ok. Ma è da lui vero. Ma è da lui vero? Ma è da lui vero, non è da me. No, ma non lo affrontiamo adesso, un po' che ci sia prima... Marco, non muovere! Guarda la posizione, ti senti? È un ordine! Niente, ho sentito Geri morire dentro, cazzo. È immobile, mi sa, beh. No, no, ok, si sta muovendo, si sta muovendo. Sono qui, Geri, tranquillo, sono qui, sono qui. Apri la porta, Geri, sono qui. Apri la porta. Aia! Cazzo! Ma che vuoi? Arpa! Che vuoi? No, non voglio nulla, cazzo. Mi lascio in bivere non ce la fa, scusa. Arpino! Che? Un altro prima di vederne morire, ok. No, no, ce l'ha fatta, è spaventata. No, no, ma erano in due. Non mi capisse per l'altro. La prisione l'ha portato via subito. Vabbè, dai. Trova la Bo. La Bio Organic Warfare. No. Weep. Weep. Warfare, niente, niente. C'è la Call of Duty in testa. No, Jeff, è morto. Non ho capito in quale gioco le tex e i pavimenti fanno schifo. Su Nier Automata. No, proprio a livello di ambientazioni. Le tex sono veramente... sto bevendo. Vabbè. Vabbè, guarda. Mamma mia, guarda, che ti naggia bottiglia sullo schermo. Lo sto facendo. Mamma mia, che fastidio. L'altra parte! L'altra parte! per te si incazzati ok un altro video dove moriranno dentro degli nostri, va bene vieni non forte nell'orecchio, qui qui si lasciava di fare no 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 non dirlo eri in una stanza mi ricordo si pare che sia qui perchè rimanevamo in pochi, in due lui pare che muore ora adesso buon co è Marco quel, ecco perchè si salva è fin, è un nuovo fin bello stai grasciato Jerry, ci sei magari l'hanno sistemata questa cosa Jerry? ci sono, mi vedi? si oddio ci siamo, ok gg era qui era? mamma mia non moriamo che magari puoi regalare là, è proprio là no no no, stai guardando buon co no 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 no, sto guardando buon co oh è bellino il serpente, non l'avevo mai visto così a stare in soluzione ti ha fatto male eh ti ha fatto male eh cazzo se mi ha fatto male e se fosse più avanti? no no no, sto guardando devo usare lo spray eh? no, non lo uso cazzo lo uso io, lo uso io oddio, 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 oddio lo prendo a pugni eh? lo prendo a pugni, basta no 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 no, pazzo si lo sta prendendo a pugni si ma non mirare Marco, mira il serpente niente devo usarla merda è faticoso sì, manca ancora tanto per la fine ma voglia non l'ha nemmeno negato, l'ha detto davvero non lo nega la prima volta posso sopravvivere al primo attacco basta con il tipo in mezzo però è proprio là deja vu ancora lì non lo vedo più no devi sparargli quando apri la bocca, non sparare a casa ecco il deja vu, l'ho messo deja vu cazzo ma che cazzo sta mangiando? i gonchi, i gonchi ma non è vero mangiare ma basta smettiti di fare amicizia col serpente hai ucciso i miei uomini sono vivo sono vivo dai non dire così tu non conti genio perché se non conti nulla cazzo a posto usa quello spray dai dai guarda 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 però lo curo eh, non conto nulla ma lo curo a posto apri la bocca niente vabbè a me sempre mancava solo una tacca in realtà va bene vabbè a posto quello solo ma cazzo mamma mia ne hai un altro di quei bellissimi cosi no scherzo ne ho due io ne ho due io, non mi serve adesso devi andare a te, devi andare a te non va bene non posso proprio farlo io cosa cazzo dici ho detto la solita cosa che ho detto niente ho perso un casino di vita ma sei biondo? adesso non ho posto scrittato sei biondo cosa hai detto? no no sei biondo no niente sei biondo no GERRY GERRY ma io sto sparando sono morto GERRY ma io sto sparando e che gli devo fare? c'era un quick time event cattivissimo io ho sparato ma lui non gli rifiwavo un cazzo io non me lo ricordavo assolutamente perchè c'è il lion nella foto? qua ne va, 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 va Vai, vai Jerry, vai, vai Che cazzo devo pigiare? Nessuno, devi sparaggi No, devi prendere sempre Ti ha tolto vita? Poca in realtà, poca poca A me no, ha tolto un casino, quindi si è andata bene Ma ho colpi? No, la fai mettere qui Dai, fai andare avanti a me che conosco già il team event Vabbè Non fa niente a questo punto No, non devi sparare, non devi sparare Si, si, si Si questa parte ho fatto da solo, mi ricordo con Death Un vagone c'è fuori di 70 Tante botte che ho preso Non ho perso niente, ho solo preso botte Però, cazzo Vabbè, l'immigliazione lì è pesante Proprio sulla cassa è messo, mi vuole darci io Beh, la testa E' qui davanti No, la testa Lo sto guardando io Eccola Madonna santa, stai fermino, eh Tutte le mie preziose munizioni Ne avevo trovate così tante Che vuole, mo Abbiamo un culo, vai Ma botte, cazzo, col coltello No, 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 non fari foda Uuuu Mi ho diventato quel lanciagranate io Non usarlo, ci sono in mezzo Come no? Ma niente allora Lo fate andare via coltellate, cazzo E non ho nient'altro allora, non sparo Ma non è finito Niente Aspetta, aspetta, se lì in angolo stai fermo Vai, vai, spara Vediamo se ti faccio danno Ti faccio a pezzi, io l'ho fatto a pezzi, cazzo Oh, non l'ho fatto io Niente È andato via, è andato via Ho visto il checkpoint E non è crashato, gg Ma se a me è un problema di nut Può essere, sì È che youtube aveva probabilmente anche un altro giochi, mi ricordo Per fortuna no, cazzo, meno male Niente Eh, death, sì Death, per esempio, riusciva a giocare a GTA per bene Perché aveva il nut Ristretto Io? Non mi ha tolto vita perché ha preso te Io? No, lascialo, bastardo L'ho fatto bene, no, no, l'ho fatto bene Naaart Naaart No, 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 no Con l'air, con l'air Un po' provato Nart, però Mamma mia Cioè, indietro te sei usato la lancia granate? No Ed andavo via Eccolo Cazzo L'ha preso? No, no, no Se muori in mondo bastardo, gli ho lanciato una granata in bocca e io, vabbè Sto anche sparando, eh No, 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 le bombe, cazzo Niente Ok, guarda, chi l'ha mandato via adesso Io non sparò niente Eh, è stata la tua granata del cazzo, eh Ah, posso così Posso così Ora vedete, ragazzi, come... Oddio, c'è un altro È ancora qui, non è andato via No, 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 aspetta, cazzo Io ti guardo, ora Eh, mamma è andato verso di te No, no, vai là, cazzo Stami lontano No, no, Gerry, no Ci sono colpi, li hai presi Me ne vado via, guarda No, Gerry Gerry Non lo vedo Che c'è? Lo sento ma non lo vedo, eccolo È difficile, Nart Guarda, guarda È andato via? Ma così tanta vita aveva, tanto non lo ammazzavamo nemmeno così Fa un po' impressione vedere la bocca in primo piano, eh Ma in prima persona col VR Non si può, non si può, in terza persona, già Niente Fosto? Sì, ma quanto? Quanto? Troppo Che una persona ad un certo punto si deve arrendere anche Mamma mia Ma davvero, ancora? Niente Che tu hai detto? Ah no, non sei te No, non sono io Dovremmo salvarlo Dovremmo salvarlo Sì, dovremmo salvarlo Nooo, non ammazzarlo L'abbiamo salvato, l'abbiamo salvato A posto Stai bene, Marco? Minchia, ti abbiamo salvato il culo, cazzo, eh? 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 Ti abbiamo salvato il culo, cazzo? Ti abbiamo salvato il culo, cazzo? Andiamo, fin, andiamo, fin Bisognava uscire tipo con la scossa, c'era una roba led Sì, sì, sì Quando passava Sì Uno doveva distrarlo, doveva attivare la scossa Ecco qua, siamo noi Muore qua, muore qua Marco, Marco Siamo tutti con te, Marco Corri Ahia, non corriamo, non corriamo Ci picchi e parte Non è vero, gli abbiamo fatto danno fino adesso Cioè, se voi se non volete vincere Si arrendono la vita Eh, vabbè, ho capito, non mi fa muovere, eh? Io sto correndo, cazzo Eh, mi sa- E' salito? E' salito? No, cioè sì Cioè, potevo fulminarlo, benissimo No, Jerry, devi scendere, devi distrarlo, Jerry, Jerry Salirà qui, Jerry Ok? Vai, 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 vai Non l'ha preso Eh, no Si è staccata Ah, sì, è vero La gloria Veloce, Marco Guarda a me muore ora, eh No, non è morto, non è morto È morto, è morto È morto, è morto No, non è morto No, non è morto Non è morto, non è morto Non è morto Non è morto Non morire, Jerry Non morire, Jerry Preso, Jerry, l'ho preso, l'ho preso Mamma mia, mi stava bullizzando, cazzo Mi dava a destra e sinistra, eh Eh, ho fatto Ce l'abbiamo fatta, Marco, ce l'abbiamo fatta Marco, sei immortale, cazzo G G Ok Chi non è mortale, sei tu Marco Oh Oh Yeah Oh Oh Guardami culo da solo, cazzo No, no, dai, che strozo Ma che ce l'ha scosto, oh no No, lo tolto Niente, sono rimasti colpi del pompa Dai, andiamo, Marco, andiamo, shhh Tranquillo, andiamo, non dirgli niente, Jerry Andiamo Sparo, cazzo, eh Non dirgli niente, Jerry Andiamo via Marco, ti divido a due, cazzo Come l'attacco a Pai Tranquillo, Marco, ci sono solo io non ce l'ha fatta da pierce pizzo cazzo non ce l'ha fatta è pieno di vite adesso mamma mia tutto bene pierce tutto bene sapevo che erivo tranquillo niente ha picchiato da un picchiato fin ahahahahah ho perso vita hai toccato quello veramente niente mi hanno appena curato mi hanno appena curato però io non sono morto va bene perchè era meno nascosto niente ahahahahah per un errore bellissimo bullare gente mamma mia ahahahahah quanti affacciate che potessi morire comunque siamo andati benissimo qui e col serpente ci morivo almeno 3-4 volte eccolo lì dai la vidi no no è la caramella di ados ah guarda che figa che è benvenuti in cina ciao gloria niente niente l'unico sopravvissuto eccolo lì sparagli 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 chris non rompi i coglioni infatti c'ha ragione pierce stavolta niente peggio oh no questo no questi erano fastidiosi questi erano una merda questi si marco marco e come cazzo dovevi sparare questi? eh dovevi sparare la sagoma poi ci scomponevano dovevi colpire la gemma la roba che c'era una roba strana quello eccola la gemma una vespa cazzo la gemma e guarda una vespa gigante povero marco mi fa zig zag povero marco vaffanculo non mi da una mano collabora a morire cazzo si ma muore oh eh povero marco si muore eh vabbè ma cazzo come scambiare la pepe per una gemma oddio cosa aveva le bombe grazie marco mi sei più utile da morto che da vivo mi stai dicendo no 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 troppo scusa scusa hai fatto male a Chris hai ferito i suoi sentimenti ma questo è stato un pugno vicino all'C4 no l'ho dato il pugno a marco in realtà lo odiava tipo c'era ancora un'altra mosca viva lui ma ha rosicato male niente abbiamo rovinato la scena cazzo stiamo vedendo tutte le scene siamo dei mostri oh ho munizioni, munizioni, aspetta ricarico cioè io quello che ho più è del lanciacranate che munizioni mi sta dando un casino del lanciacranate vabbè non me le hanno mai date sai io ne ho 12 io le uniche munizioni che ho avuto sono quelle che mi hanno dato per il ricordo però piano non c'è bisogno di mettere così forte madonna non sei nemmeno mosso cazzo mi giri il cazzo a chris madonna, mi ha portato un'altra squadra mi sa madonna è tornato in comando proprio in un'altra squadra come può sentirsi poveraccio in modo eterno no no ci sta puttana è quella cattiva è quella cattiva no dai gloria shut up shut up non ti preoccupi di tutta la nostra mission si 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 oh 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 li guida scuolta non mi servono eh cazzo no 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 Scusate! Scusate, mi è scappato Mi hai fatto male, cazzo Ma è Gloria? Non lo sa, non lo sa Sei instabile, è liquido Scusate Baby, baby Ah no La suoneria è partita Dopo il discorso profondo Parte la suoneria Mi dispiace che la tua squadra sia morta Baby, baby Niente, abbiamo rovinato anche questa Va bene Next Next La prossima E' pazzo Nooo Qui siamo morti un casino di volte No, no, no Qua è facile Minchia se si moriva di continuo Era difficile con Sherry Ah, forse con Sherry, non lo so Con Chris non me lo ricordi Difficile Sono brutti ricordi Ma non ti lancia granate allora, dai Qua c'era quello con la motosega se non ricordo male Cazzo dici, oddio, c'è anche qui in essay Non me lo ricordavo Niente, come fa? Non mi hanno ricordato Oddio, cosa succede? Mi stanno mirando, Sherry! Eh, va bene, va bene No, non va bene No, vabbè Vabbè, ammazziamo allora, dai Posso? E' morto davvero? No, no, no Figuraci Figuraci Posso? Eh, ma erano in due Ahhhh E' morto l'altro Geli, quello mi sta mirando, eh Vabbè, è morto Fui esagerato però, eh Eh, ho capito, non ho munizioni che devo fare Mamma mia Ok, morto anche l'altro Oh, ognuno approccia la maniera diversa Cazzo, gli sparato una granata, poverito Tipo, c'è rimasto malissimo quello Mamma mia Perché non lo faccio più, cazzo Eh, allora io quello incazzato, eh, non tu No, no, no Guarda, scusa Il telefono è fatto a fiore di merda con lui Eh, niente E' vero in vergogno, cazzo Sembra un duro, no? Cosa fa? Niente Il cecchino cavalletta no, però dai Il cecchino cavalletta? Il cecchino cavalletta no Guardalo E' un figone No, non lo è Non è orgoglioso, guardalo, guarda, è un figo E' come Noctis, cazzo Poi ammazzar quello lontano Vai Ok Non credo Io non ci credo, sto facendo finlazione a questa parte Condetto non era andata così, cazzo Condetto non era nemmeno in inferno, però, eh Mamma mia, era normale, cazzo Addirittura normale, era Sì, perché che dovevo mettere? Oddio Almeno ardo, dai No, io la prima volta mi vodo la trama Eh, la che non aveva dire 6, si golle lui Ma che sapevo una sega che com'era io, non l'uomo gioca Mamma mia Mamma mia Merda un altro GERI GERI Mamma mia, come ha fatto a missarti Eh, vaffanculo Beh, era proprio verga A me mi ha preso benissimo Vendicami, cazzo Mamma mia, si Oh, ma Ok, mi guarda che c'è una Nass Cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Che hai dato fuoco? No, si sta cristallizzando Eh, che c'è l'ho per ora Si sta cristallizzando Eh Ora muta No, va bene No, è uno di quelli che non ce la fa Non ci crede abbastanza Allora, che dovevo fare? Siii, niente, niente Non era uno di quelli, Gerry Non era uno di quelli No, è morto, è morto Vai via No, è un cazzo di golem Andiamo via davvero Andiamo via, andiamo via Andiamo via, andiamo via Non credo possa fare questo salto, dai Quello devi fare veloce Ok, ok Non lo può fare in salto, vero? Minchia se l'ha fatto Minchia se l'ha fatto Eh, ma gli estremi, gli estremi rimedi Non ho voglia di rifare il pezzo Devi cedere Devi cedere Oh Ok Sono stati bellissimi, eh Vieni, vieni vicino a me, va, vieni vicino a me, cazzo No, vengo io, vengo io, vengo io, vengo io Vabbè, avevo una tacca sola, mi mancava, dai Non è vero, eri giallo, ti ho visto Due, due tacche mancavano Niente Ada! Captain, get a hold of yourself That heel is about to open up our house Un altro cazzo di elicottero, davvero? Non me lo ricordavo Ne usati troppi, ne usati Questo non me lo ricordavo Dov'è? 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 Ha preso te? Si No, non ha preso nessuno, mi ha stordito Qual è questo? Desi, sei? No Perché devo scherzare? Non parlare, solo scappa Perché il risale? Eri preoccupata? Niente, lo sordito Mi ha buttato in acqua, vai 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 Mi sono andato via Oh cazzo keep moving cazzo ci sta puntando ci sta puntando non può colpirci, hai scrittato il missile l'ho lanciato però no 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 niente Emilia li ha scendi qui che cazzo è? e mi dà la morte a me puttana troia puttana troia ha dato la morte a me davvero perchè mi sono fermato a salvarlo poi mi bullizza quando ci sono le morti lui e poi se le dimentica però che io faccio queste morti a causa sua oh di cosa ho visto cazzo sto giocando meglio la campagna di Cristo sto facendo meno morti che quella di Leon cazzo non dico un cazzo padre no non stiamo scherzando ho fatto meno morti si è bello secondo gioco si secondo gioco eh te risale questo gradino non ce la faccio a farlo cazzo ma io non te l'ho buttato giù quello da così passo prima io no 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 che capra quello niente non ce la faccio a far i salti dove vai? vedo le cavallette un coglionazzo ho lasciato i missili in ritardo potevo ucciderlo oh si bella questa situazione bella bella ci sei quasi tranquillo sono il gong se vuoi questo è il karma cazzo questo è lo strafottuto karma poi dico che non esiste il karma cazzo mamma mia e come passo con questo qui in mezzo uno dei due lo prende? no 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 basta che trovi lo spiraio giù eh ero passato in realtà il giocaio non ci ho creduto niente poi questo gradino si smetterebbe di non prenderlo non questo ma quello tuo dovremmo cercare di passare lo stesso momento magari niente ti prendo sempre cazzo dai questo coglione vai corri gente siamo sincronizzati a best cazzo mamma mia niente si è fermato il mio aspetta miseria no 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 aspetta e non farlo stronzo niente non puoi fallire un'altra volta lì qui niente ti sta bene cazzo io mica ti pico su adesso mi hanno bloccato sono passato liquido anch'io 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 vai 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 ok siamo arrivati no io non ancora aspetta ok era qua era qua mi ricordo qui uff mamma mia ma che deve fare quest'elicottero niente non per i coglioni che deve fare aia su tu c'hai le granate io no si si lo sto spettando che mi smetti di sparare a me però niente 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 è finita nevami loro che io c'ho il lancio granate cazzo eeeh hai colpito me vero? no no colpito mai te ero da loro cazzo sei sicuro? mi sono arrivate delle esplosioni mi sono arrivate delle esplosioni niente vabbè niente chiedi alla chat cazzo ok ok niente niente ah io ero entrato nella casetta arrivo già lì tranquillo mi butto dentro a casa se ci riesco vieni 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 prendi questa qui è una caramellina per la menta cioè per la menta grazie trovi dentro entro qui dentro entro qui dentro per la menta che sta dicendo? per la menta oh trotto granate anch'io dai ok puttana troia e le mo- ma non sei entrato mai poi mai qui ma sono in un'altra stanza mi ha abbandonato ero convinto fosse dietro di me niente mi ha abbandonato ora dove sei? mi ha abbandonato ma chi che abbandonato? cazzo ma come li hai fatti a mutare così cazzo? dove li hai colpiti? ma io non sto sparando mai a loro sto sparando solo all'elicottero niente perchè erano in quel modo? l'elicottero li colpisce mi sa niente guarda se smetti di spararmi proprio di diretto magari lo apprezzo oh mio dio ma che succede? che cosa succede? cosa succede? non lo so esplode tutto esplode niente mi stavo sparando io ma basta ma io- ma dai dai attraverso la porta mi ha preso ma vaffanculo dove sei? ma vaffanculo magari non- aspetta vediamo senza stargli io ora ok io ho sparato un colpo ritorno dentro ma c'è un altro liquido no no perchè sono uscito? niente vabbè t'ha passato subito comunque non ti avrei potuto servare lo stesso no ce lo odiava proprio non so perchè forse uno degli insetti era suo fratello non lo so no io sono uscito con la sorella quindi lui no niente la scena di remistire niente non dovevamo dirlo non dovevamo dirlo l'hai ucciso cazzo non dovevamo dirlo si ma intanto voglio morire non voglio morire oh mio dio vabbè io appena salgo mi trovo questo va bene ti voglio bene anch'io gioco non c'è granate non taccia quelli cosa succede? che botte ho fatto malissimo madonna ho visto ho sentito il dolore anch'io ho perso un'attacca anche se non mi aveva colpito no ma che stai entrando è troppo vicino è troppo vicino lì qui troppo vicino e sparagli cazzo niente non c'è granate cosa gli sfa che schifo è questo come stai una mente cemino? non mi ero mai fatto colpito a quello è la prima volta che vedo queste animazioni cazzo niente e così devo andare avanti c'è solo questa niente 5 colpi di cecchino minchia lo stanno sparando a me no però l'ho colpito però l'ho colpito ce n'è uno dietro gerry vedi l'ombra la vedi? eccolo lì sta ballando dietro di noi niente è lontano sando caro che ha detto viva gerry no lascia stare gerry chiami gerry chiami gerry chiami gerry niente ce n'è uno dietro anche vado via vado via gerry mi hanno bloccato non vedo no non li qui no no oh boy ci stanno provando con tutte le mani ci odiano proprio vai via io non li ho toccate nel suono di rimistirio però cazzo no no vai via vai via liquid vai via picchiali c'è air qui picchiali non lo sapevo mica io si si certo e ora l'ho scoperto cazzo picchiali picchiali le mie andate le mie andate il mio non vuole il mio non vuole guarda no 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 è stanco levati levati liquid ok ciao questo elicottero è di merda basta che fastidio io le usate le mie granate ne ho una ma non posso facciare la differenza ho capito che due comunque mi ha bisogno di installarlo mamma mi avevo fatto delle live sulle ford con liquid con liquid indimenticabili min min un caricatore io lo ho già eh sono stato stupido io no 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 dove cazzo sei finito lì ero no ero ero in buona posizione ok ok stai affianando la spada mi vado giù vabbè vabbè no cazzo un po' per uno dai un po' per uno vabbè ricotta dai magari manca una granata no niente ce l'ho provato la lancio io eh che se non abbia spazzo stretto magari muoio arrivo c'è arrivo che sta p***a che cosa è stavo premendo già cerchia mentre risalivo io eh entra cazzo entra ok sto benissimo aspetta mi curo mi curo faccio le pozioni belle fa le tutte tutte le ha avuto da che p***a anche il liquido non lo trova con me a left no no ci ho giocato una volta questo pop a left non scherziamo vabbè ma fa dei danni assurdi quell'elicottero di merda eh vabbè no cazzo ah no no ci mettono in crisi di elicotteri no 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 ma addirittura stai esplodendo tutto Jerry via da qui via andiamo andiamo Jerry non sei abbastanza preoccupato no no è che mamma mia il problema è risolto cazzo l'elicotteri andato non sei abbastanza preoccupato che cazzo sembra bella ok vorrei dire quasi peggio da che erico bestia ma no adesso c'è molto sega man niente non è andato a livello e c'è l'altro mamma mia oh bobbio niente non lo colpisce nel tracera cosa sta succedendo finito finito non ti sono che cosa so non 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 cazzo aspetta aspetta che li prossimo ah triglip torna indietro cazzo no ci sono da solo non torna indietro guarda è qui il salto è qui ci vaffanculo no stava per cadere in acqua niente l'hai fatto mutare ci riprovo eh no niente non va più ma lo vieni qua dai niente 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 non me lo vuole far uccidere questo che continua tra poco diventa una cazzo vado io ho capito non ce l'ha affatto sta qui devi morire che ha dovuto buttare acqua per fuori mamma mia ok vai triggali ma in realtà non ero arrivato fino a qui prima ma non c'è nessuno gerry non c'è più nessuno ma non è possibile oddio 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 ci lancerò la madre vai 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 no 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 ti dico torni dietro lì a posto questo dobbiamo fare oddio questo no no io mi avevo già saltato mi avevo già saltato mi hai illuso cazzo ma che sto sparando ma che cazzo sono venuti qua come due ci sono erano i cazzatissimo quattro stronzi ci hanno messo in crisi abbiamo buttato giù un elicottero cazzo un fottuto a pash con missile e mitragliatrici e quattro stronzi con… con il macete ci hanno messo in crisi però erano i cazzati neri erano i cazzatissimi erano i cazzatissimi Mi sa che erano i parenti della sorella, quindi... Mamma mia, resistivano pure alle granate, cazzo. Eh, mi sa che te, Daisy, non hai l'estensione per Google che si chiama... Better TTV. E vedi dell'emoticon in più se hai quell'estensione. FizzBadman è un emoticon triste, molto triste. Oddio, sono morto. Quella fa, quanti granate ho lanciato. Non sono passate, non sono passate. Dove c'è un car armato con tutti i cari colpi che ho tirato? Mamma mia. Ma è che il car armato l'hai fatto fuori con un colpo di cecchino alla fine. Niente, niente. No, ma è la scena dove c'è Leon, questa? Mmm, già? No, comunque il tizio che la motosegara era con Ada e con Sherry. Ecco perché non l'ho mai visto. No, ma è con Sherry, c'è anche con Sherry. C'è di più con Sherry, in realtà. No, non mi ricordo nulla, no, no. Niente. Cancellatissimo. Niente. Dottor Salvador. Ma vabbè, piano, dai. No, piano un cazzo, uccidi. Sì, ma è una donna alla fine. Insomma. Ma come si? Oddio, ci devo tirare i droni in faccia ora. Dai, è facile, è facile. Col cecchino andrò io. Credo che con Lio non avevamo i problemi dei munizioni qui, cazzo. No, col cecchino un cazzo. Aspetta, cos'hai detto? Non ci provare. Oh, i cecchini lanciano granate. Ho capito, li fai tu gli enigmi, allora io sparo. E' tranquillo, ho detto cecchino la prima volta. Ho detto, bo**, l'anno che non sia la mia cosa. Niente. Beh, un altro lo fa per forza. Lì qui, non vedo. Niente, niente. Lì che non vedo. No. No, ma ci salvi, ci salvi. Hai fatto bene, hai fatto bene. Sì, ma arriviamo alla porta, per cortesia. Ok, non potevo sparare. Oddio! Eri morto, vero? Eri morto. Eri morto tantissimo. Sono vivo, sono vivo. Eri morto tantissimo. Sto facendo urlando. Che fatica, cazzo. Ok, no, c'ho colpi di pompa, vado di pompa. Non è per niente un altro gioco che abbiamo fatto. C'è la campagna di rio, un altro videogioco, secondo me. Ok, spray medico e 5 colpi di pompa, quindi vado di pompa. Quindi rifaccio io gli enigli, ok. Se ce la faccio con le pompe, mi basta, sì. In realtà è facile, è tipo la roba di Dead by Day, dove devi premere i tassi. Quando... Ah, cioè io, eh. Posso stuparlo, eh. Da quella? Aspetta. Ok. Niente non lo sta dicendo. Dai, si vede che è Leon da qui, dai. Come fai a sapere, guarda, da sì? Elena, Leon, ciao belloni. Ciao belloni. Ma te sei rosso. Ah, voglio? Ma mi ha preso il laser, non ti ricordi? No, a me no, a me no. Tu eri morto direttamente, cazzo. E qua le enigmas, è di qua. Ah no. Lo stavo facendo, sì. Ma non era lì, non era il tuo. Ah no, lui... Loro è vero, li fanno diversi, no, però non è la stessa cosa, forse. Non è uguale a quello di Leon, forse. Se mi arriva un altro di quello, potrei andare. Sì, è simile. Perché lì, è la cazzo, la cazzo, la cazzo. Lo devi fare, eh? La cazzo. Sei a terra anche tu? Sì. Niente. Sparagli, Gerry. Sparagli. Sparagli. Allora, va bene, sì, entri. No, 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 no. Che cosa? Che sta succedendo? Come è? Cioè, mi aiuto. Cioè, mi sono vicini. Stanno vincendo l'oro, mi sa... Grazie, cazzo. È meglio così, mi sa. Mi sa che è meglio così. Questa non è difficoltà, questa è malattia. Ma io c'ho il pop, io ce la faccio a mandare. Io ce la sto facendo a fare gli enigmi, però... Nel senso, mi arrivavano in culo... Sì, ma non hai capito, non... Non ho idea da dove spuntavano fuori, perché io li mandavo indietro, ma non ne spuntavano altri da nulla. Prova a farlo io, l'enigma, dai. Ma non è difficile, no, 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 no. Facciamo come con Leon, dai, magari. Niente, niente. Proviamo quel sistema, ce la facciamo. Detono, papà via. Perché altro hai cominciato troppo presto, perché con... Con Leon li abbiamo prima respinti insieme, poi abbiamo cominciato a fare... Perché non ci siamo accorti che dovevamo farlo. No, 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 no. Esatto, ma in realtà ci ha salvato quella gioia. Solo che dosai pompa per spingerli, ci mette una vita a ricaricarlo. Che è? Sono vendicati... Che sono vendicati per prima? Anzi, no, in realtà no, è finito qua la prima, cazzo. Il Leon li ha uccisi, ohì. Ciao, Vaporetto. Ok, adesso non li vedo vicini, vado. Ho sbagliato tanto. Niente, niente, è buon inizio. Mamma mia, sto ammazzando Leon, cazzo. Vai così. Ok. Tutto a posto. Vado. Mi sto ammazzando, eh? No, io poi questa cazza mia l'abbia ucciso, lo sai, sì? Eh, la cazza che mi ha ucciso a me prima. Ah, ecco perché era a fall... Ah, avevamo... Ecco perché avevamo cominciato a fallire. La cazza. Tutta la serie di... Era a cosa della cazza, esatto. È iniziato tutto da la cazza. Sono sabio, sono sabio. Ma che è successo? Cos'era quel lampo? È morto Leon, vado a salvarlo. Jerry? Che c'è? Sono qui. Ok, è andato via. Sono qui. Vado. Stanno morendo, dirà. Non me ne frega un cazzo, guarda. Vai, vai. Mancano due. Ok. Il filo di te, Jerry. Ho finito i mucioli, liquidi, liquidi, liquidi! È finito, è finito, è finito, è finito! Un esploso, c'era di... Dai, rivo, 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 rivo. Oh, mamma mia. Ciao ma, purezza. Ce l'abbiamo fatta, certo. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta un altro, po'. Mamma mia. Mamma mia. Cosa spari? Non considero per quelli che dice... te ne ho 71 l'ho preso ancora prima che lo aprivi buono buono mmm buono abilità mamma mia meno male abbiamo fatto veloce meno male che non è difficoltà massima se non avrò potuto usarli aspetta sto cercando di c'era roba va bene arrivo hurry up stiamo soffrendo vaporetto tu non hai idea il mondo si è perso la life perfetta oggi cazzo veramente questo è horror cazzo mamma mia non ho mai sofferto così tanto cazzo scureggiata proprio alza il vestito blu così boom e scappa mentre corre qua con quanto fa quella corsetta non stiamo salvando una cazzo non stiamo salvando cazzo vabbè questa fa anche cagare ci sta non ci siamo ubriachi niente 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 adesso lascia il popolo e la sciarpa di mikasa ci hanno chiesto dove siamo ubriachi no no vabbè per ora no però potremmo arrivare a bere dopo questa Per dimenticare, cazzo. Non posso capirvi, aiuteremo a portare avanti un gioco così. Ma manco fosse più quello il problema, al minimo ormai. Incontriamo Geri liquidi del passato, amicchia siamo noi. Piano, 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 ero io quello, cazzo. E niente. Jerry, smettila, Jerry. No, 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 mi hai lasciato, cazzo. Ahia? Obiettivamente Leon è più figo di Chris. No, no, assolutamente no. No, guarda che figo che è. Ma guarda Chris. Sì, ma guarda che capelli. Ma appunto, è proprio quello che rovina Leon. Niente, mi sta stupendo pure Leon e niente. Liquid presente contro Geri del passato. No, non era lui, era Simmonds, il servizio di sicurezza. Ho scelto tutti i miei uomini perché lei! E ho scelto più 70.000 persone! Non me ne frega un cazzo, il tuo presidente di merda. Jerry, basta. Ma 70.000 innocenti? Ma 70.000 innocenti? Tu lo sai che io ci tengo gli innocenti? Ma che cazzo c'entra? Cioè ha tirato fuori una cosa che non c'entra niente in quel momento. Cosa c'entrava Ada, questi 70.000, scusa. Tutti familiari, cazzo. E poi quei 70.000 li ha uccisi sempre Ada, quindi c'ha comunque più ragione Chris. Dove la toccare? Tanti scorsi di merda! Non ha senso! E lui si guarda, ma che cazzo stanno dicendo? Adesso scorreggia, guarda. Mio Dio di nuovo la sta per fare. Ma Johnny? Sta a partevi il naso! Ma lui la protegge perché è innamorato di lei, sì? È top effettivamente Vaporetto, non puoi negarlo questo. Ma tu non l'hai mai visto il capitolo dove si innamorano? Già di niente. Niente, niente. Cioè diciamo che ho due buone... ragionamenti per innamorarsi di lei. Anche se non è A, vabbè non lo sa, non lo sa. Quanti Pokémon ti mancano lì qui? Ma dove? Sulle live di... Sulle live di Twitch o delle maratone di Pokémon? No te sboppino! No te sboppino! No, il pezzo in macchina! Addio! No! Speravo non fosse questo capitolo fosse il prossimo! È pieno di roba il terzo capitolo di Chris, mamma mia! Ma a me vengono più lunghi avvisoli di loro proprio! Nooo! Un'ora e mezza ciascun capitolo sono durati eh! Boh, sta che ci stava talmente tante quella roba! Niente, guida Gerdi, è finita! Sì, è finita! Sì, è finita! Io non so veramente come si faceva la cattura del Pokémon in quelle cose! Devi tener premuto quando il cerchio è... finché il cerchio non si riempie, tipo! Ho avuto enough di questi stupiti games! Non posso romperlo, quel tuo camioncino? Ah, per risolvere di questo, di cui ti guidavo qua! No, non avevo abilitato proprio la funzione! Se finisci poi ti danno qualcosa, no! Eh, c'è un punteggio, c'è un punteggio! C'è una classifica! Pensavo che fossimo mo- eh, ok, qua lì! Ma come? L'hai persi, Gerry! A stecca! Di qui, da stecca! Oh, Gerry, l'hai persi! Ho visto il tuo velo questa metà, va bene! Sono un po' zio, po! Non so nemmeno se sti colpi stanno entrando! Dalla mia parte no! Non è la mia! Ma sto dicendo, gli passano proprio attraverso, non è che si infrangono! Oh, ora è più vicino! Un po' che peccarità, eh! Eh, ora io magari non sono... Troppo vicino, cazzo! Gli è andato addosso! Guarda, magari non sono un esperto delle 4D, sì, di Resident Evil, ma... È necessario fare una parte in... La macchina! Non è assolutamente necessario! Non è assolutamente necessario! Eh, eh... Niente, niente! Mi sono lasciato qua addosso! No, no, la roba era già lì! Cioè, lì sei andato a sbattere e non ci provare! No, 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 no! L'ho buttato giù io! No, ma c'era una persona! Sì, l'ho buttato giù io! Era nella macchina! Oh mio Dio! Ma poi... Ma poi... No, 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 non è buono! Vai, vai lì qui! Beh, se mi... Troppo, Gerry, troppo! La stai superando! Non è una gara! Scusa, scusa, scusa! Non è una gara! Niente! Vabbè, che cazzo era quello! Un coglione! Andava a contromare! Mi sembra che ha guidato lì, i Dead, dalla mia parola! Ah, bevi Chris! Perché non mi ricordo che potevo guidare io! Come ragazzi! E' andato! Mammo mio! Qui DCW ci stava bene, cazzo. Ok, mi è andato. Aooo eheh! Mi strema da visuale. Ed è dietro di noi, oberma e' andato. E' stato troppo veloce per loro, cazzo. Ma che cazzo succede?! Me l'ho fatto esplodere! Troppo? Ma mamma mia! GERRY! Ma tutto bene? AIA! AIA! Che dita abbiamo GERRY! Ma che dita abbiamo! Tu l'ha vista la vita, non c'è vita! E' lì a destra GERRY! Non c'è vita ti dico! GERRY guarda a destra! Oh allora... Ho giocato a Need for Speed Payback! No, vedo, vedo, vedo! Niente, Dio Brando mi dice che faccio schifo anche a guidarti! Niente! Mamma mia, d'altro lasciatemi insultano sempre, cazzo! Ma perché? Lasciate stare già! Niente! No, sta guidando bene in realtà, ragazzi, dai! Ma voi avete idea come si guida in questo gioco di merda? Voi avete idea? Io ho giocato con mia sorella questo gioco, ragazzi, non avete idea di come guidava lei! Non è Need for Speed, ragazzi! Non è Need for Speed, ve lo dico! Mamma mia, pensavo fossimo morti! Niente! GERRY! Sì, ma che GTA non ti crede che il sistema di guida sia fatto decentemente? D'altro il terreno a volte si sputtana da solo, oddio! No, no, no! Un gioco dove segui da molto bene è PUBG, via! Pfff! Fisate! Vabbè, con quella vita non ce la faremo mai! Però almeno arriviamo al prossimo... Ma perché prendo danno? Non stavo toccando nemmeno il muro! No, no, lo stavi toccando! No, ora! Ah, ho preso fuoco! Cioè, c'erano così tante scintille, cazzo! No, verso la fine, cazzo! Ok. Niente! Va bene! Jerry è anche simpatico e Tom che non mi piace! Niente! Chi è Tom? Tom e Jerry! No, va bene! Niente! Dio, posso chiudere qui per forza? Posso andare alla letra? Posso andare alla letra? Posso andare alla letra? Lasciamo così, dai? Continuiamo la prossima volta da qui! No, Jerry, no! Ma a full vita doveva ricominciare, sì? Sì sì sì! GG! Questo me lo ricordavo! Questo me lo ricordavo! E allora è fatta, easy! Cioè, non curva! Palla pure piano qua, senza... tanto anche lei ha problemi in sua parte! Dici? Sì sì sì! Vedo che rallenta un parecchio pure lei! Non mi pare che siamo risolto! Sto tenendo d'occhio i metri! Sto tenendo d'occhio i metri! Ok, quando... Qua tocca a me adesso, mi sa! Se non avessi la visuale a destra sarebbe già qualcosa di... Che cazzo deve andare qua? Sali, sali, sali! Ah, ok, ok! C'è una sessione di guida di Resident Evil! Io questa cosa quanto... Mi sono slavato con Deathware questa cosa! Oh mio Dio! Eh sì, io dovrei ucciderli tutti? Va bene! Ma ti do una mano anch'io! Ma perché io sto guardando te? Che cazzo c'ho un cecchino? Non riesco a sparare! Ma è sensibilissimo! Sì, ma hanno un casino di vita! Non muoiono, è inutile! Ma come fanno a non ucciderci? Hanno degli RPG, cazzo! Oddio, che è successo con la macchina? Ok, è andato! Mi scappa quello? Ma... Ma che me ne frega se scappa? Perché è così sensibile la mira? Non ne ho idea... Come non ho idea di che vita abbiamo perché è sparita! Che c'è? Che c'è? Non c'è vita! Sì, ma no! Non credo che ci sia, ma non si vede! No, non c'è vita! No, c'è... Paletto! Ma devo salire su? No, no, no! Svistra? No, in fronte... A destra non c'è strada, non c'è... Dici qui? Eh, no, dai! Eccola lì! Che pure sai come si accelera? Oddio, che da me! A posto? Adesso? I tasti? Sì, con la tastiera e mouse... Dai, lascia stare! Lascia stare! Devo che non si accelerava con la tastiera e la tastiera! Indovini il tasto! Il click sinistro! Un click sinistro! Un click sinistro per accelerare! Che schifo! Cosa? Non si tratta di nuovo! Guarda la vita! Guarda la vita! Guarda la vita delle macchine! Niente! Mi ha lasciato quella vita! No, ma non devi sparare la data! Non devi sparare la data! Sì, sì, sì! Devi sparare la data! Devi sparare a quelli! Sì, però ti muovi di continuo! Eh, loro li sto schivando! Stanno sparando missili! Sai com'è? Ma non ci penso io! Non sparano niente! Mamma mia! Lei vabbè si va addosso il problema così! Eh, ma io non li vedo se sono di fianco! Vedo solo in prima persona! Poi una prima terza persona diventa! È stranissimo! Sì! Vabbè, poi li superi niente! Finisci lì! Niente! Niente! Si stiamo allontanando! Cazzo! Non posso usare il turbo sulla curva! Tu si guidavo il pad! Eh, bene, bene! Un po' meglio! Poi se commode in tastiera è un po' una merda! Può essere! Proprio per dire il linfosfido ci avevo commose in tastiera uguale! Ok, perché siamo a 200 metri... Va bene! Se raggiungiamo i 300 è la fine! Niente! Che cazzo succede? Non riesco a sparare! Ah! Nooo! Pessimo momento! Mamma mia! Eh, non riesco! Non riesco! Lascia a perdere! Lascia a perdere! Ma è la stanza giusta questa? Perché c'erano due strade da parte! No, 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 è giusto! Ma che cazzo succede là? Niente! No, 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 no! Vabbè, ma sta correndo tantissimo lei! Oh, col turbo non la sta tenendo! Ma li sta colpendo il mitra? Non ne ho idea... Oddio! Ma dura ancora tanto sta merda! Ma quanto... Non mi ricordavo che trovo questa! Mamma mia! Purtro che siamo a final! Siamo qua, tanto fa! Un Jerry che spara alle nuvole! Nyeee! Basta, Brando! Basta! Lascia a stare Jerry! Lascia a stare Jerry! Lascia a stare Jerry! La mia è sensibile perché è femmina! Vabbè! È finita Jerry! È finita Jerry! È finita! Mamma mia! Noi abbiamo bevuto! Cazzo! Oh, è finita davvero! Oh, finalmente ho preso io! Ah, cazzo! Finalmente! Sette morti, cazzo! Te le meriti tu! Oh, la precisione è effettiva perché di cecchino non l'ho mai avuto! Cazzo! Non ho mai avuto colpi di cecchino! Ma sei andato bene di precisione! 69, 78! Mi batti sempre di nemici! Sì! Cos'è che mi ha fatto vincere le morti? Sì! Eh sì! Ah no! Ha eliminato un emico mentre eri in fin di vita! Mi ha dato una medaglia d'argento anche per quello! Che stavate portare in fin di vita! Ok, dai! Chiudiamo qui, cazzo! Sì, sì! Chiudiamo qui! Gomboni, gomboni! Niente! Niente! Quello è proprio wow! Gomboni, gomboni! No! Mamma mia! Gomboni, gomboni! Gomboni, gomboni! Gomboni! Gomboni, gomboni! Yeah! È stata una vera sofferenza! Pappabio! Questa ho provato tanto! In realtà non ci siamo andati male, ma è stata veramente sofferta! Qui è proprio la fatica! Sì! Mamma mia! Dei tempi di Bloodborne così tanto! Mamma mia! La prima live di Bloodborne, cazzo! No! Quella niente! Un Chiericobelva non lo superi! Un Chiericobelva! Niente! Un Chiericobelva! Niente! Quello non lo superi! Amma mia! Via ragazzoni! Io ringrazio a tutti per avermi seguito! E ci sentiamo domani! Però non so se estremo nel poveriggio! Dovrei fare un po' di cose! Vediamo! Notte a tutti ragazzoni! Notte liquidi! Notte Jerry! Notte bellone! Mamma mia! Dai la prossima live almeno sicuramente finiamo la campagna di Chris! Almeno quella la finiamo! Oh! Notte Jerry! Mamma mia! Uh! No! 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 Che casino sì! Mamma mia! allora ragazzuoli continuiamo di nuovo welcome to hangwell dai facciamo un'altra oretta e mezza come ieri lasciavamo un'altra oretta e mezza di hangwell su come si vuole per finire quel gioco adesso io no adesso la prima cosa che faccio è cercare una cartina di quel gioco una mappa dove devo andare per pigliare le tre cose che mi mancano per finirlo altrimenti questa cosa non finisce quindi adesso mi prendo la mappa vedo dove sono le fotografie di vabbè intanto riavvio ragazzi riavvio la live cambiamo il giochino non scappate torno subito anzi prima cambio titolo anche perché non ho altri indie horror di sto genere da fare se non il sequel del gioco stesso quindi finchè non finiamo hangwell non possiamo fare nient'altro cazzo grazie a tutti grazie a tutti